L'ordine del giorno recca l'audizione della Ministra della Giustizia professoressa Marta Cartabia sulle linee programmatiche del di Castero, anche in relazione al contenuto della proposta di piano nazionale di ripresa e di resilienza. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Avverto inoltre che poiché nella seduta della giornata odierna non sono previste votazioni ai deputati consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori delle commissioni, avverto che secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo l'intervento del Ministro, ciascun gruppo potrà intervenire per dieci minuti, suddividendo eventualmente il tempo a propria disposizione tra più oratori. Per il gruppo di Fratelli d'Italia, sempre secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, sarà previsto un tempo di 15 minuti. Invito pertanto i gruppi che non l'avessero già fatto a far prevenire le richieste di iscrizione a parlare. Cedo a questo punto la parola alla Ministra della Giustizia, Professoressa Marta Cartabbia, per lo svolgimento della sua relazione. Presidente, onorevoli, devo dire che c'è una certa emozione a prendere la parola in questo contesto il cui valore è davvero inestimabile. Non avrei immaginato di trovarmi a parlare di giustizia, non solo dove sulla giustizia si riflette, ma dove si elaborano le linee della giustizia e del funzionamento del nostro ordinamento giudiziario. Le linee programmatiche di questo Governo debbono muovere necessariamente da alcuni dati di contesto che ne condizionano in modo significativo i margini di azione. E ne voglio sottolineare principalmente tre. Innanzitutto il fattore Europa. Il piano Next Generation EU offre al nostro Paese grandi possibilità e grandi risorse che richiedono la messa a punto di progetti e riforme coerenti con gli obiettivi del piano. Abbiamo poche settimane per concludere questa pianificazione che detta la linea del nostro impegno immediato. In secondo luogo, il fattore pandemia. Da un anno a questa parte il Governo sta lavorando sotto la pressione di continue urgenze ed emergenze che esigono imperiosamente priorità. Per continuare a svolgere l'attività ordinaria è richiesto ogni giorno uno sforzo straordinario di impegno e di immaginazione. Lo sa bene chi opera nei palazzi di giustizia. Per continuare a celebrare i processi è stato richiesto uno sforzo innovativo ingente e mi sia consentito in questa occasione di rivolgere un pensiero di ringraziamento a magistrati, avvocati, a tutto il personale amministrativo che hanno fatto ogni sforzo per continuare a far funzionare la macchina della giustizia in tutto quest'anno con spirito di adattamento alle nuove forme che si sono rese necessarie ed esponendosi a rischi non trascurabili. Un simile sforzo riorganizzativo si è reso necessario e si sta rendendo necessario per tutte le altre attività comuni della vita della giustizia. I concorsi di avvocati, di magistrati, del personale del mondo della giustizia, le votazioni degli ordini professionali, le attività in carcere, solo per citare alcune delle emergenze che si sono rese più evidenti di recente e che hanno impegnato immediatamente la mia azione come Ministro di questo Governo. In terzo luogo, il terzo fattore di contesto è il dibattito pregresso. Molti temi sulla giustizia sono stati posti dai governi precedenti, molti i dibattiti che sono stati avviati, molti e molto divergenti i punti di vista tra le forze politiche anche all'interno del Governo, molte le risposte che questi dibattiti attendono. Per questo sento il dovere di affermare con chiarezza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento e a tutti i cittadini che qui sono rappresentati che sarebbe sleale impegnarsi nel contesto attuale con programmi inattuabili che alimentino in vano le già alte aspettative che hanno il dibattito pubblico, ben sapendo di non poterle realizzare. Cercheremo di affrontare insieme alcuni problemi, i problemi più urgenti e improcrastinabili, auspicando, senza presunzione e senza hubris, e nella misura in cui si sarà condivisione e supporto dal Parlamento, di poter contribuire a rispondere almeno ad alcune delle domande di giustizia che ardono in vari ambiti del nostro Paese. Da questa osservazione dei dati di realtà discende il metodo che intendo proporre e di cui ho già avuto modo di discutere informalmente con i capigruppo di maggioranza qualche giorno fa. In Parlamento un grande lavoro istruttorio è già stato fatto in ordine a molteplici tematiche, per lo più attraverso l'esame di disegni di legge delega, che per alcuni dei testi si trova già a uno stadio piuttosto avanzato. Ritengo che il primo compito sia quello di verificare il lascito del precedente Governo, esaminare e valutare quanto dell'esistente meriti di essere salvato e all'occorrenza modificato e implementato. Il lavoro svolto non va vanificato, ma naturalmente deve essere rimodulato e arricchito anche alla luce del carattere così ampio di questa maggioranza di Governo, senza peraltro trascurare le proposte dell'opposizione con la quale ancora non ho avuto modo di interloquire direttamente. Perciò, nelle prossime settimane, proporremo in questa sede, nell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, emendamenti ai testi già incardinati, che saranno frutto da un lato del lavoro di alcuni gruppi disperti che proprio in questi giorni sto costituendo presso il Ministero e dall'altro, come concordato, dal serrato confronto con le forze politiche di maggioranza sulle proposte da questi gruppi elaborati. Su questo piano metodologico, permettetemi un'ultima annotazione. Il Parlamento, come luogo di sintesi delle varie visioni politiche e culturali, deve essere, deve tornare ad essere centrale in ogni processo di riforma. La mia formazione e la mia storia professionale mi rendono particolarmente sensibile a una corretta impostazione dei rapporti tra Governo e Parlamento, troppo spesso piegata dalle ragioni dell'urgenza e dalle difficoltà politiche. Da parte mia vi assicuro la massima attenzione al rispetto dei principi costituzionali nei rapporti tra istituzione parlamentare e Governo. Naturalmente ciò richiede un uguale impegno da parte delle Camere, che debbono essere luogo di confronto autentico, schietto ma anche tempestivo, volto alla ricerca di un terreno di azione comune per la costruzione di posizioni condivise, che guardano al bene comune, lasciando da parte l'affermazione fino a se stessa di posizioni anche giuste, ma irrealizzabili nelle condizioni date. Da questo punto di vista, la scelta del metodo della delega legislativa mi trova estremamente favorevole, perché coinvolge il Parlamento sin dalla elaborazione degli interventi normativi, innanzitutto nella definizione del perimetro delle riforme, l'oggetto e dei suoi orientamenti di fondo, principi e criteri direttivi, assicurando, peraltro, un continuo confronto tra Governo e Parlamento anche in fase di attuazione dei decreti legislativi delegati. Infine, ma non meno rilevante, in un contesto come quello attuale, la legge delega permette di disegnare un quadro d'insieme, all'interno del quale realizzare un'attuazione graduale delle riforme possibili, attraverso lo sviluppo dei vari decreti legislativi, che hanno ad oggetto i vari segmenti prefigurati nel quadro generale, secondo un percorso realistico, ma allo stesso tempo capace di assicurare una certa coerenza d'insieme. Veniamo ora ai contenuti. La crescente domanda di giustizia da parte dei cittadini, oltre che le raccomandazioni rivolte dalle istituzioni europee al nostro Paese, anche nell'ambito della predisposizione dei progetti e delle riforme del Recovery Fund, evidenziano la necessità di approntare riforme realmente in grado di operare una riduzione dei tempi della giustizia, che oggi continuano a registrare medie del tutto inadeguate. Questo è l'obiettivo primario in materia di giustizia, cioè riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività, così da consentire anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e una ripresa degli investimenti, tenuto conto della strettissima connessione intercorrente tra relazioni commerciali, produttività economica e funzionamento della giustizia. A questo riguardo, tengo particolarmente a sottolineare che l'idea di efficienza dell'amministrazione della giustizia non rappresenta soltanto un obiettivo pragmatico, riflesso della sopraccennata stretta compenetrazione intercorrente tra giustizia ed economia, ma si coniuga altresì con la stessa componente valoriale del processo e quindi con gli ideali intrinseci alla giustizia, attesi alla realizzazione di una tutela giurisdizionale effettiva per tutti. Rendere la giustizia efficiente, riducendo i tempi di definizione delle controversie, è un obiettivo imposto, anzitutto dal principio costituzionale, del giusto processo e dall'impegno incombente sul legislatore di assicurare la ragionevole durata del processo. In una parola, la Costituzione richiede che il processo sia giusto e sia breve, obiettivi altissimi quelli indicati dalla Costituzione che devono ispirare l'azione di tutte le istituzioni pur nella consapevolezza che la loro piena realizzazione è e sarà una meta da conquistare e riconquistare continuamente. Mi preme sottolineare che occorre evitare di incorrere nell'equivoco per il quale l'obiettivo di una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, possa essere raggiunto solo attraverso interventi riformatori sul rito del processo o dei processi. A mio parere, occorre muoversi contestualmente seguendo tre direttrici tra loro inscindibili, sul piano organizzativo, nella dimensione extra-processuale e in quella endo-processuale, che sono complementari fra loro. A tal fine appare prioritaria l'azione riorganizzativa della macchina giudiziaria amministrativa, che rientra propriamente nei compiti che la Costituzione all'articolo 110 affida esplicitamente al Ministro della Giustizia e che i progetti presentati nell'ambito del recovery plan consentono di declinare sotto diversi aspetti. Senza ripercorrere qui analiticamente tutti gli aspetti dei diversi progetti ricompresi in quel piano, segnalo sinteticamente i tre principali ambiti di intervento da essi previsto. Il primo riguarda la valorizzazione del personale e delle risorse umane. Il secondo mira al potenziamento delle infrastrutture digitali, con la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali, di trasmissione di atti e provvedimenti. Il terzo destina un significativo ammontare di risorse all'edilizia giudiziaria e all'architettura penitenziaria. Grazie anche alle risorse provenienti dall'Unione europea, reputo che si debba lavorare sul piano organizzativo in una triplite direzione, portare a piena attuazione l'ufficio del processo, che è una delle componenti del piano del recovery plan, individuare e mettere in rete le best practices organizzative esistenti, incrementare una formazione specifica per le figure apicali degli uffici giudiziari. Primo, la principale innovazione già avviata in fase sperimentale sarà la diffusione dell'ufficio del processo, un modello organizzativo che rafforza la capacità decisionale del giudice, inserendo nello staff gli assistenti sul modello dei clerks dei Paesi anglosassoni, incaricati della classificazione dei casi, della ricerca dei precedenti giurisprudenziali, dei contributi dottrinali pertinenti, della predisposizione di bozze di provvedimenti. Si tratta di potenziare strutture già esistenti dal 2012. Attraverso la piena operatività di tale strutture, il magistrato manterrebbe la fisiologica solitudine nel momento decisionale, che spetta solo a lui, ma verrebbe ad essere adeguatamente supportato per tutto quanto riguarda la parte conoscitiva e organizzativa preliminare al giudicare, con evidenti positivi riflessi sulla durata del processo stesso e sulla sua efficienza e qualità. Secondo, nella stessa ottica di sollevare il giudice da incombenze non strettamente attinenti alla funzione del giudicare, occorrerà procedere a rafforzare la capacità amministrativa del sistema, integrando il personale delle cancellerie, ma anche sopperendo alla carenza di professionalità tecniche diverse da quelle di natura giuridica, ma pure essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa. Terzo, no scusate, secondo, questo era il secondo punto del primo aspetto. Quanto al secondo aspetto, mettere in rete le esperienze virtuose, occorre davvero prendere atto che nel nostro sistema giustizia esistono delle eccellenze, che spesso sono frutto di capacità personali di singoli dirigenti di uffici giudiziari, ma che faticano a essere elevate a sistema e messe in rete. Occorre che queste esperienze virtuose emergano anche attraverso adeguate analisi statistiche giudiziarie, nelle quali l'Italia è stata in passato all'avanguardia e che vanno potenziate, rese più veloci, perché consentono quella misurazione dell'attività senza la quale non è possibile addivenire un miglioramento della giustizia. A questo scopo occorrerà orientare la funzione ispettiva del Ministero della Giustizia, anche in funzione collaborativa con i singoli uffici giudiziari, diffondendo la conoscenza e l'implementazione delle cosiddette best practices meritevoli di essere disseminate attraverso circolari e iniziative di formazione. Scambi orizzontali tra i vertici degli uffici giudiziari supportati e ospitati dal Ministero, anche attraverso iniziative di sostegno alle esigenze dell'organizzazione, dovranno insomma affiancarsi alla più nota funzione investigativa a fini disciplinari dell'Ispettorato generale. Il terzo aspetto riguarda la formazione, specie dei magistrati candidati o già investiti di incarichi direttivi e simidirettivi. Essa dovrà essere meglio strutturata nell'ambito dell'attività della Scuola della Magistratura, con corsi obbligatori di durata maggiore dell'attuale, focalizzati su profili organizzativi e gestionali dell'Amministrazione della Giustizia, estesi anche ai dirigenti già in servizio, che coinvolgano anche docenti e testimoni esterni al circuito giudiziario e che si concludano con una valutazione seria del profilo attitudinale dei partecipanti. La comprovata capacità gestionale, già richiamata più o meno implicitamente in alcune norme vigenti e in progetti di riforma all'attenzione del Parlamento, dovrà espressamente figurare tra i requisiti della nomina per un incarico direttivo. Muovendo da questo piano strettamente organizzativo a quello invece delle riforme normative, vorrei ora svolgere qualche considerazione breve, in merito però ai diversi capitoli della giustizia civile, della giustizia tributaria, della giustizia penale e del Consiglio Superiore della Magistratura, tutti interessati da disegni di legge già presenti in Parlamento. Uno dei primi ambiti nel quadro della giustizia civile, interessati dal disegno di legge del Senato 1662, riguarda le cosiddette misure alternative di risoluzione delle controversie, mediazione, negoziazione, conciliazione. E reputo che questi strumenti di risoluzione dei conflitti siano dotati di un grande potenziale, in particolare nel nostro ordinamento e nelle specifiche condizioni date. È ormai un dato di esperienza consolidato, anche in una prospettiva comparata con altri sistemi giuridici, che le forme alternative di risoluzione dei conflitti producono effetti virtuosi di alleggerimento dell'amministrazione della giustizia. Ma il loro significato supera questa intuitiva potenzialità. Tutt'altro che alternative, queste forme di risoluzione delle controversie giuridiche rivestono un ruolo che è piuttosto di complementarità rispetto alla giurisdizione, di coesistenza, come già indicava uno dei grandi maestri del diritto processuale e costituzionale comparato, Mauro Cappelletti. In particolare, accanto alle più sperimentate forme arbitrali, vorrei soffermare l'attenzione sulla mediazione, uno strumento verso il quale, dopo gli iniziali scetticismi, si riscontra oggi una generale apertura da parte delle diverse categorie, pur nella necessità di significative messe a punto legislative. A questo proposito segnalo tre specifici aspetti che richiedono un intervento normativo. Il primo riguarda la definizione degli ambiti di applicazione della mediazione, per estenderne la portata, specie nei settori dove statisticamente si sono verificate maggiori possibilità di successo e dove la mediazione porterebbe un indiscutibile valore aggiunto, come nelle controversie in materia di famiglia e di filiazione. Il secondo riguarda la previsione di incentivi processuali, economici, fiscali. E il terzo riguarda il rapporto tra mediazione e giudizio, valorizzandone ad esempio una più compiuta interrelazione grazie allo sviluppo della mediazione delegata dal giudice o endoprocessuale. È tempo di ripensare il rapporto tra processo davanti al giudice e strumenti di mediazione, offrendo anche al giudice la possibilità di incoraggiare le parti verso soluzioni conciliative, specialmente attraverso la previsione di misure premiali. Premiali per i giudici, ad esempio attraverso la possibilità di rilevare statisticamente queste attività, sovente faticose e laboriose, ma non contemplate dalle statistiche e quindi non valutate per le progressioni di professionalità. Premiali per le parti, con l'introduzione ad esempio di discipline di favore per le spese giudiziali. Questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia che tengono conto delle relazioni sociali coinvolte, risanano lacerazioni e stemperano le tensioni sociali. Peraltro, onorevoli, su un piano più pragmatico, occorre osservare che le soluzioni negoziali e di mediazione si renderanno tanto più necessarie, direi indispensabili nel contesto attuale, in cui gli effetti economici della pandemia stanno determinando forti squilibri nei rapporti giuridici esistenti. La giustizia preventiva e consensuale rappresenterà una strada necessaria per il contenimento di una possibile esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari, quando cesseranno gli effetti dei provvedimenti che bloccano gli sfratti, le esecuzioni, le procedure concorsuali, i licenziamenti, il contenzioso bancario, ad esempio. Occorre prepararsi per tempo. Alcune esperienze di diritto comparato, in particolare in Spagna all'epoca della crisi finanziaria del 2008, mostrano la fecondità di questa strada e indicalo la necessità di predisporre per tempo strumenti adeguati a percorrere strada di giustizia consensuale. La rinegoziazione dei contratti in condizioni di eccessiva onorosità sopravvenuta. Le controversie per il pagamento di somme di denaro. I rapporti in crisi di natura societaria e commerciale. Le relazioni critiche fra la banca e i clienti. Le pretese verso la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese in attesa di risposta. Sono solo alcune tipologie di situazioni che, in mancanza di un intervento urgente, dedicato e congruo, renderanno la giustizia del nostro Paese gravemente insostenibile. Il tempo che stiamo attraversando offre un'occasione importante per coltivare e diffondere una nuova cultura della giustizia, aperta a una pluralità di vie della giustizia, da svilupparsi anche attraverso adeguati strumenti di formazione, rivolti oltre che ai mediatori, al difensore, al giudice, e che debbono trovare spazio sin dai primi anni degli studi universitari. Però un processo civile lento e malato difficilmente potrà affiancarsi a sistemi alternativi validi ed efficaci. Quale debitore insolvente potrebbe trovare maggior vantaggio da una procedura di mediazione quando il giudizio civile nel quale è stato convenuto può garantirgli anni di inadempimento. Per questo una seconda fondamentale area di intervento è rappresentata da quella processuale in senso stretto. Senza coltivare illusorie ambizioni di riforme di sistema non praticabili nelle condizioni date, la riforma dovrà puntare su correzioni selettive ad alcune disfunzioni sull'estensione o sull'adattamento di modelli già sperimentati e, se possibile, già misurati anche dalle agenzie internazionali di monitoraggio, ad esempio CEPES, nella loro capacità di propiziare decisioni più tempestive. In questo ambito sicuramente dovranno essere valorizzati alcuni aspetti dei disegni di legge presenti in Parlamento sui quali si registra una sempre più ampia convergenza, quale ad esempio il principio di sentaticità degli atti, mediante una sua chiara affermazione, e le introduzioni di specifiche disposizioni volte a renderlo effettivo. Tralascio per ovvie ragioni di tempo molti punti specifici dai disegni di legge pendenti per sottolineare quale è, a mio avviso, il nodo di fondo che andrà sciolto, a partire dai lavori della Commissione di studio per la giustizia civile che si sta insediando in questi giorni. La scelta di base è tra il mantenimento dei modelli diritto attuali, ordinario e sommario di cognizione, con adeguati interventi di supporto mirati a ridurre i tempi e ad assicurare che la causa possa pervenire alla prima udienza con un tema decidendum già definitivamente cristallizzato, quindi mantenere i modelli attuali con una correzione, oppure introdurre nuovi riti, magari semplificati e sostitutivi rispetto a quello ordinario attualmente in vigore. In tal caso occorrerà ponderare attentamente l'eventuale abrogazione del rito sommario di cognizione, in quanto il rito sommario rappresenta un modello non soltanto funzionante, ma particolarmente apprezzato come risultato dalle numerose audizioni già disposte e dalle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee. Inoltre occorrerà tenere presente che ogni riscrittura del rito comporta necessariamente, almeno nelle prime frasi, un ulteriore rallentamento della macchina giudiziaria. Infine ritengo che meriti particolare attenzione anche l'area della giustizia di famiglia minorile, nella quale la normativa vigente registra una serie di perduranti lacune e profili problematici di non poco momento, tra i più evidenti dei quali possono individuarsi quelli legati alla frammentazione delle tutele e all'assenza di una disciplina organica per il processo minorile. Occorrerà ancora valutare il problema dei filtri delle impugnazioni, più volte sottolineato dalle istituzioni europee, in una prospettiva che analizzi le ragioni di inefficacia di quelli vigenti con riferimento all'appello civile e che individui possibili linee di intervento per meglio valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, risolvendo per questa via il rilevantissimo divario quantitativo tra il numero di casi trattati in sede di legittimità nel nostro Paese e quelli trattati da altri Corti Supreme europei e le sue ricadute in termini di stabilità di formante giurisprudenziale. Passiamo al secondo capitolo delle riforme normative. Ho dedicato una breve riflessione anche alla giustizia tributaria, perché uno dei settori dove si verifica una forte sofferenza dal punto di vista dell'arretrato e della durata dei processi è proprio quello tributario. La giustizia tributaria rientra nelle competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma per ciò che riguarda il ricorso in Cassazione ha anche il Ministro della Giustizia coinvolto a pieno titolo. Ed è lì che si ravvisano i principali fattori critici. Sotto il profilo quantitativo, il contenzioso tributario ha una componente molto importante dell'arretrato che si è accumulato dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo stime recenti, alla fine del 2020 pendevano più di 50 mila ricorsi, pari circa al 50% delle pendenze in Cassazione, pur se nel frattempo i ricorsi davanti alle commissioni tributarie provinciali si sono sostanzialmente dimezzati. Sotto il profilo qualitativo, le decisioni adottate dalla Corte di Cassazione comportano molto spesso l'annullamento di quanto è deciso in appello dalle commissioni tributarie regionali. Si è passati dal 52% nel 2016 al 47% nel 2020, ma con variazioni non particolarmente significative all'interno dell'ultimo lustro. Sotto il profilo temporale vi sono indizi che attestano tempi di giacienza nei ricorsi in Cassazione, in alcuni casi superiori a tre anni, i quali naturalmente si aggiungono alla durata dei giudizi svolti nei due precedenti gradi di giudizio. Le constatazioni che precedono inducono a ritenere che per quanto si sia fatto non poco per far pervenire meno ricorsi alla Cassazione e farli decidere più speditamente, oltre che in modo adeguato, vi sia ancora molto da fare. A questo proposito, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, stiamo costituendo un gruppo di lavoro per esplorare possibili linee di riforma della giustizia tributaria, che intervengano tanto sul piano legislativo, soprattutto nella direzione di rafforzare profili di specifica professionalità e indipendenza dei giudici tributari, come segnalato anche pochi giorni o sono dal Presidente Leone all'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria, sia sul piano organizzativo, in particolare per favorire un più consistente esercizio della funzione nomofilattica da parte della Suprema Corte, al fine di prevenire il moltiplicarsi dei ricorsi, delle impugnazioni e l'incoerenza degli orientamenti. La giustizia penale. I tempi di definizione dei giudizi penali, al pari se non più di quelli civili, sono oggetto di preoccupazioni delle istituzioni europee e, del resto, anche un ampio e vivace dibattito interno si è sviluppato proprio intorno ai tempi della giustizia penale, mostrando come una eccessiva durata del processo rechi pregiudizio a tutti, sia alle garanzie delle persone coinvolte, indagato, imputato, vittima, persona offesa, sia all'interesse dell'ordinamento, all'accertamento e alla persecuzione dei reati. In questo contesto, nei primissimi giorni dell'insediamento di questo Governo, a fronte della incognabile disponibilità di alcuni gruppi, ad accantonare gli emendamenti da loro presentati in materia di prescrizione per non esacerbare il conflitto, la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità in tempi ragionevoli, assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena. Così quell'ordine del giorno. Questo impegno deve essere onorato. In questo ambito, dunque, occorre procedere con puntuali interventi di riforma, volti ad offrire ulteriori necessari contributi per razionalizzare e accelerare il procedimento penale in tutte le sue fasi, nel rispetto delle fondamentali garanzie della difesa e della struttura dialettica del metodo di conoscenza giudiziaria che impronta il nostro modello accusatorio. Anche qui molto lavoro è già stato svolto. Il disegno di legge pendente alla Camera 2435 è frutto di un'ampia istruttoria, tiene conto di una intensa stagione di confronto con i diversi attori del processo penale, avvocatura nelle sue varie articolazioni, magistratura, studiosi del processo. Alla Camera, ampie sono state le audizioni svolte e molti punti di vista espressi in fase istruttoria. Per questa ragione, come nel caso della giustizia civile, la commissione di studio che abbiamo istituito al Ministero muoverà dal lavoro già esistente, proponendo tutte le integrazioni e le modifiche del caso. Il disegno di legge in discussione, oltre alle soluzioni tese a favorire una maggiore diffusione dello strumento telematico per il deposito di atti e documenti e quelle preordinate a migliorare il sistema delle notificazioni, delinea indirizzi riformatori della fase delle indagini e dell'audenza periminare, volte ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento in particolare alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale. Unitamente a questi aspetti, ritengo debba essere valorizzata anche l'attenzione che gli indirizzi di riforma riservano ai riti alternativi, attualmente previsti dal nostro sistema processuale, in particolare nel senso dell'ampliamento della possibilità di accedervi. Il Codice di rito del 1988 aveva molto scommesso sui riti alternativi per consentire il funzionamento del modello accusatorio. L'esperienza e le statistiche giudiziarie ci dicono da tempo che il ricorso ai riti alternativi è ancora insufficiente e richiede di essere valorizzato. Quanto alla possibilità di garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza occorrerà qui riflettere bene e ponderare adeguatamente le varie opzioni in campo per individuare le misure anche organizzative più idonee a garantire che il dibattimento possa restare il luogo di elezione dell'esercizio anche dialettico del diritto di difesa, come sollecitato da più parti nelle audizioni. In questo orizzonte, a mio avviso, debbono essere collocati anche gli sforzi tesi ad assicurare una più compiuta attuazione della Direttiva Europea 343 del 2016 in materia di rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Qui, a proposito soprattutto della presunzione di innocenza, permettetemi di sottolineare la necessità che l'avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riservo, lontano dagli strumenti mediatici per una effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del nostro sistema costituzionale. Un ulteriore spazio di riflessione dovrà essere riservato anche al giudizio d'appello, individuato dalle riforme e dalle riflessioni succedutesi fin qui, come fase particolarmente critica per i tempi complessivi del procedimento penale. È, credo, obiettivo di tutti stabilire un definitivo e convincente punto d'equilibrio tra l'esigenza di concepire, secondo criteri ragionevolmente selettivi, l'accesso al secondo grado di giudizio e l'interesse della parte all'impugnazione della decisione pronunciata dal giudice di prima istanza. Resto peraltro convinta che una riforma del processo penale deve pure poggiare su meditati interventi di deflazione sostanziale, cui può giungersi, tra l'altro, intervenendo su meccanismi di procedibilità, incrementando il rilievo delle condotte riparatorie e ampliando l'operatività di istituti che si sono rivelati nella prassi particolarmente effettivi, come la sospensione del procedimento commessa alla prova dell'imputato e la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Non posso non osservare che anche in Italia il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nel nostro ordinamento in forma sperimentale, che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all'autore di reato di partecipare attivamente, se entrambi li acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità tra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell'importanza dell'esperienza già maturata nel nostro ordinamento, occorre intraprendere un'attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni Stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione. Ancora, lo sguardo sulle esigenze della giustizia penale sarebbe incompleto se non tenesse conto anche della fase dell'esecuzione penale, che è oggetto di mie costante preoccupazioni. È un convincimento in me profondamente radicato, oltre che avvalorato da dati statistici consolidati, che la qualità della vita dell'intera comunità penitenziaria, di chi vi opera con professionalità e dedizione e di chi vi si trova per scontare la pena, è un fattore direttamente proporzionale al contrasto e alla prevenzione del crimine. Per seguire lo scopo rieducativo della pena non costituisce soltanto un dovere morale costituzionale, come si legge inequivocabilmente nell'articolo 27 della Costituzione, ma è anche il modo più effettivo ed efficace per prevenire la recidiva e quindi, in ultima analisi, per irrobustire la sicurezza della vita sociale. È in questo ampio e articolato quadro della giustizia penale che deve essere adeguatamente collocata anche la discussione sul nodo della prescrizione. Una discussione che coinvolge interessi contrapposti, tutti meritevoli della più ampia considerazione, quelli facenti capo all'autore del reato, presunto non colpevole fino alla condanna definitiva, e quelli della vittima del reato stesso, oltre che dell'intera comunità civile, che attende dal processo penale l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. Un processo dalla durata ragionevole di per sé risolverebbe il nodo della prescrizione, relegandola a evento eccezionale. Visto in un più articolato intervento riformatore, il problema ne uscirebbe, forse, drammatizzato, affrancando l'istituto della prescrizione dal ruolo scomodo di principale, se non unico, rimedio ai problemi determinati dall'eccessiva durata del processo. Anche in questo ambito occorrerà esaminare e ponderare numerose alternative e maturare nel dibattito scientifico, politico e comparato. Al proposito, il testo dell'articolo 159, oggi all'esame del Parlamento, propone una distinzione tra la posizione dell'imputato assolto da quella del condannato nel giudizio di primo grado. L'effetto sospensivo riguarderebbe solo quest'ultimo, prevedendo poi un recupero del tempo sospeso ai fini del calcolo del corso della prescrizione nel caso di annullamento della sentenza di condanna del primo grado. D'altro canto, da tempo, nella riflessione accademica, si ragiona anche intorno ad altri strumenti, quali la possibilità di munire l'ordinamento di un corredo di rimedi di tipo compensativo per le ipotesi in cui si registri una dilatazione eccessiva dei tempi processuali, non ascrivibile a responsabilità dell'imputato. Si tratta di scelte cui sono già prodati alcuni ordinamenti europei, la Germania e la Spagna ad esempio, caratterizzati da un assetto assimilabile a quello delineatisi nel nostro Paese che non incontrano contrarietà, in particolare nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ancora, un'altra alternativa sulla scorta di altre esperienze, nonché di progetti di riforma già discussi negli anni passati, sono state avanzate proposte dirette a distinguere il tempo necessario a prescrivere, oggi individuato come un arco temporale unico, corrente dalla Commissione del Reato fino a Giudicato, in due arcate temporali distinte. La prima, il tempo dell'oblio, presidiata dalla prescrizione sostanziale, la seconda, il tempo del processo, presidiata dalla prescrizione processuale. Le alternative sono molte. Sarebbe prenaturo da parte mia prendere posizione in questo momento a favore dell'uno o dell'altra ipotesi. Il gruppo di lavoro che è stato istituito considererà con attenzione le diverse opzioni elaborate a tal fine, sia nella letteratura sia in precedenti iniziative di riforma. E degli sviluppi di queste riflessioni sarà mia cura informarvi costantemente nel corso dei lavori. Un'ultima parola, infine, per confermare l'impegno di questa amministrazione in tutte le iniziative necessarie ad assistere e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle mafie e alle altre forme di criminalità grave e organizzata. Iniziative che assumono particolare importanza nell'attuale situazione economica e sociale del Paese. Occorre mettere in campo tutte le risorse necessarie perché il rilancio dell'economia nazionale non si trasformi mai nell'indebito arricchimento di pochi. In questo orizzonte va considerato l'impegno che stiamo dedicando unitamente al Consiglio Superiore della Magistratura per perfezionare gli ultimi passi dell'EPPO con l'accordo sulla distribuzione territoriale e funzionale di un significativo contingente di procuratori europei delegati che rappresenteranno innanzi ai giudici nazionali l'istituzione preposta alla tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione. Sul versante dell'efficace contrasto alla corruzione, anche soggetto di specifiche raccomandazioni della Commissione, l'assicurazione di tempi ragionevoli all'accertamento processuale resta il profilo più critico. Bisogna però prendere atto che il percorso legislativo già svolto ha visto il nostro Paese dotarsi progressivamente di strumenti investigativi e di norme incriminatrici perfettamente conformi agli standard richiesti dalle convenzioni internazionali, oltre che di un insieme di strumenti di natura preventiva, in particolare l'autorità nazionale anticorruzione che esercita un'importante attività di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e di vigilanza nei contratti pubblici. Oggi, di nuovo, sono soprattutto i ritardi nell'accertamento giudiziale definitivo ad incidere negativamente sulla percezione collettiva della corruzione, penalizzando peraltro il nostro Paese sullo scenario internazionale. Per altro verso, occorre ancora misurarsi con la qualità delle regole e con la capacità amministrativa delle nostre istituzioni, la necessità di semplificare e razionale le procedure, garantire trasparenza, assicurare qualità dei controlli. Occorre fare i conti con le lacune, la frammentarietà e talvolta le contraddizioni che caratterizzano le regolazioni dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici, il lobbying e del conflitto di interessi. Carenze che, oltre ad incidere sull'efficacia delle strategie di prevenzione, possono complicare l'applicazione di alcune fattispecie penali recentemente riformate, come il traffico di influenze illecite previste dall'articolo 346 bis, consegnando al giudice penale il compito di reprimere la deviazione patologica di certe attività senza che prima sia stato definito il perimetro della loro fisiologica esplicazione. Ultimo passaggio, e mi scuso sin da subito per la lunghezza, ma i temi erano davvero infiniti. Consiglio superiore della magistratura, non possiamo fare a meno di fare un riferimento a questo capitolo. Le note non commendevoli vicende che hanno riguardato la magistratura, specie negli ultimi mesi, rendono improcrastinabile anche un intervento di riforma di alcuni profili del Consiglio superiore della magistratura, anche per rispondere alle giuste attese dei cittadini verso un ordine giudiziario che recuperi prestigio e credibilità. Anche in questo ambito i lavori sono già in corso in questa Commissione. Il disegno di legge contiene un programma molto ampio di riforme. In particolare, l'intervento muove in primo luogo dall'esigenza di superare i profili problematici emersi in relazione alle modalità di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Allo scopo si prevede una profonda riforma del sistema elettorale dell'organo di governo della magistratura, con l'obiettivo di ridurre il peso delle correnti nella scelta dei candidati e nella determinazione dei componenti dell'organo di autogoverno. Inoltre, il disegno di legge interviene sul settore nel quale maggiormente si sono evidenziati i problemi di funzionamento del CSM, che è rappresentato dalla selezione dei vertici degli uffici. Poi vi sono numerose altre previsioni. Rispetto alle iniziative all'attenzione del Parlamento, accolgo in particolare l'esigenza di disciplinare la procedura del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi secondo criteri di trasparenza ed efficienza, allo scopo di orientare le scelte alle preminenti esigenze di continuità e della qualità dell'azione organizzativa. Parimenti condivisibile è la previsione di un periodo di permanenza minima quadriennale nell'esigenza, nell'esercizio delle funzioni direttive per intuitive ragioni. Quanto al tema della riforma elettorale del CSM, occorrerà un'attenta e profonda riflessione per addivenire a valutazioni condivise. Peraltro è mia ferma convinzione che non debba nutrirsi l'illusoria rappresentazione che un intervento sul sistema elettorale del Consiglio possa di per sé offrire una definitiva soluzione alle criticità che stanno interessando la magistratura italiana, le quali attingono in vero a un sostrato comportamentale e culturale che nessuna legge da sola può essere in grado di sovvertire. In ogni caso, rispetto all'attuale regime che prevede tre collegi udici e consentono agli elettori di esprimire un voto sui singoli candidati, sono stati nel tempo formulate diverse alternative. L'ultimo disegno di legge in ordine del tempo, che è appunto il disegno di legge del precedente Governo, prevede tra l'altro l'innalzamento a 20 del numero dei membri togati eletti nel CSM, la suddivisione nel territorio in 17 collegi ordinari a cui si aggiungono due ulteriori collegi, un eventuale secondo turno e inoltre disposizioni per la parità di genere. Ma vanno anche ricordate ulteriori alternative che saranno esaminate dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero. Basti ricordare a mero titolo esemplificativo che, dopo il sistema proporzionale vigente dal 1975 al 2002, fu proposto un sistema a doppio turno elaborato dalla Commissione presieduta da Luigi Scotti nel 2015. Altri sistemi sono reperibili in altre esperienze di diritto comparato. Ritengo che qualunque sia la scelta verso la quale si orienterà il consenso, essa dovrà rigradicarsi nella consapevolezza della fisiologica e, peraltro, ineliminabile pluralità della cultura e della magistratura, rifuggendo dalla semplificazione che confonde il valore del pluralismo con le degenerazioni del correntismo. Ed è in questa luce che occorrerà valutare possibili interventi. Va anche considerata la possibilità di assicurare un contingentamento della presenza nel CSM di giudici e pubblici ministeri che rifletta la proporzione tra le due categorie nella magistratura di merito. Inoltre, una possibile ipotesi che si è affacciata al dibattito e che mi pare da esplorare attentamente è quella di affiancare al nuovo sistema elettorale un sistema di rinnovo parziale del Consiglio del Superiore della magistratura, come già avviene per altri organi costituzionali, in particolare organi di garanzia. Ad esempio, ogni due anni potrebbero essere rinnovati la metà dei laici e la metà dei togati. Una tale previsione, lungi dall'appesantire, potrebbe rivelarsi utile sia ad assicurare una maggiore continuità dell'istituzione, sia a non disperdere le competenze acquisite dai consiglieri in carica, sia a scoraggiare logiche spartitorie che poco si addicono alla natura di organo di garanzia che la Costituzione attribuisce al CSM. Dal punto di vista costituzionale si tratta di comprendere se un tale obiettivo sia alla portata di una legge ordinaria, cioè se sia possibile interpretare i quattro anni, di cui al penultimo comma dell'articolo 104, come sembrerebbe testualmente riferito ai membri singolarmente considerati e non all'intero organo nel suo complesso. Tante altre cose ci sarebbero da dire, ma già così molti e molti impegnativi sono i fronti di lavoro di questo Governo nel settore della giustizia. Sono consapevole di aver trascurato molte cose e in questa già troppo lunga sintesi delle principali e ineludibili linee d'azione e alcuni capitoli dovranno comunque essere necessariamente affrontati. Uno su tutti il capitolo della magistratura onoraria. Non ho toccato questo tema perché siamo in attesa di un importante ma difficile nel parto pronunciamento della Corte Costituzionale che ormai attendiamo da settimane che potrebbe incidere significativamente sulle condizioni d'insieme della magistratura onoraria. Di fronte a questa panoramica di problemi non posso, concludendo, non condividere con voi la percezione della gravità del momento, della enormità dell'impegno, della necessità di agire in tempi stretti e di addivenire a soluzioni condivise. Non cerchiamo la perfezione, ma cerchiamo le migliori risposte possibili nelle condizioni date. Ce la faremo, insieme, se saremo animati dalla stessa convinzione che, in altra epoca, non meno drammatica, non meno divisiva della nostra, ha sostenuto tanto i padri costituenti quanto i fondatori del grande progetto europeo che in questo nostro tempo mostra tutta la sua lungimiranza. L'augurio e l'impegno da parte mia è che, al termine di questa fatica, possiamo anche noi pronunciare le parole che furono di De Gasperi, Adenauer e Schumann, ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide. Grazie. Ministra Cartabia, grazie a lei per questa relazione oltremodo puntuale. Passiamo ora agli interventi dei gruppi. Iniziamo dal Movimento 5 Stelle. Onorevole Giuliano, a lei la parola. Grazie. Scusatemi, ecco, ora si sente. Quindi ribadisco il mio saluto e il mio benvenuto, a nome di tutto il Movimento 5 Stelle, alla Ministra Cartabia. La ringrazio per la sua presenza qui in Commissione e per la relazione che ci ha illustrato, ricca di spunti per approfondite riflessioni. Auspico, ovviamente, una proficua collaborazione che conduca al perseguimento di obiettivi concreti per l'ulteriore miglioramento del funzionamento del settore giustizia, che sappiamo essere un settore assolutamente nevralgico, che incide in maniera decisiva sulla qualità della vita dei cittadini. Ringrazio il Ministro Cartabia per le parole di apprezzamento sui disegni di legge già depositati in Parlamento, i disegni di legge di riforma e sulla necessità di valorizzare il lavoro svolto come punto di partenza, sul quale certamente ci sarà possibilità di ampio confronto. Oggi, Ministro, nonostante il terribile momento pandemico, grazie al lavoro svolto anche dal precedente Governo, abbiamo l'irripetibile possibilità di sfruttare una serie di risorse legate al recovery plan per mettere in campo una decisiva modernizzazione del paese Italia anche nel settore giustizia. In quest'ottica, dal punto di vista, parlando dell'ambito della digitalizzazione, penso per esempio al perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, in particolare anche nel processo e nel procedimento penale, con la creazione di una rete unica che possa avere poi ricadute importanti in termini di efficienza, di semplificazione, di risparmio di costi vivi, ma anche di materiale di consumo e di inutili trasferte degli operatori di giustizia in un'ottica di semplificazione del loro lavoro anche dal punto di vista dell'avvocatura, i cui rischi di spostamento, in particolare in questo momento di pandemia, sono ovviamente da tenere in considerazione. quindi le chiedo quale direzione intende assumere in questo senso e in particolare pensando ad alcuni esperimenti, diciamo così, alcuni strumenti emergenziali nel settore giustizia che sono stati adottati in questo periodo dal precedente governo e sono stati apprezzati come strumenti innovativi molto efficaci. Penso per esempio alla trattazione scritta nel processo civile per la maggior parte delle fasi non istruttorie oppure all'udienza da remoto nel processo amministrativo che ha visto il favore di avvocatura e di magistratura. le chiedo se intenda rendere strutturali queste esperienze e in che direzione intenda proseguire in questo ambito. Ancora, certamente fondamentale, come lei stessa ha ricordato, è il tema delle risorse umane su cui il precedente governo aveva già previsto un piano di assunzioni senza precedenti sia di personale amministrativo, sia di personale all'interno dell'amministrazione penitenziaria, ma anche di magistrati con l'adozione della misura delle piante organiche flessibili. Per quello che mi risulta, la bozza relativamente alle piante organiche flessibili era stata inviata al CSM ad ottobre. Quindi le chiedo se ha notizie della espressione, del parere o meno, o se sia ancora pendente, se siamo ancora in attesa del parere, da parte del CSM. Relativamente invece alle assunzioni a tempo determinato che sono previste per lo smaltimento dell'arretrato all'interno del recovery plan, le chiedo se sappia indicarci i criteri di selezione, le modalità e la tempistica di assunzione di questo personale. Infine concludo con due accenni. Vedo con assoluto favore il suo riferimento alla magistratura onoraria perché certamente è una categoria a cui dobbiamo dare delle risposte efficaci e in tempi quanto più celeri possibili. Come lei sa in Senato già appende un disegno di legge in questo senso e occorre certamente anche in linea con quello che dirà la Corte Costituzionale un intervento immediato che possa dare tranquillità e una risposta efficace e di tutela nei confronti di una categoria che ha svolto e continua a svolgere un ruolo assolutamente importante. Un ultimo accenno, lei Ministra ha parlato della giustizia riparativa e della mediazione penale in particolare su questo tema c'è già una proposta di legge a prima firma del collega Davis Dori perché riteniamo che sia un tema assolutamente importante proprio perché la giustizia riparativa mette al centro le esigenze della vittima e conseguentemente tende alla ricostituzione di un patto sociale che si è poi interrotto e che viene interrotto dal fatto di reato. Quindi in questo senso auspichiamo un'accelerazione e un impegno nell'adozione di tutte le misure anche normative necessarie. La ringrazio, la saluto e le ribadisco che dal Movimento 5 Stelle lei troverà sempre un approccio di critica costruttiva, di collaborazione e di assoluta lealtà. Ancora grazie. Grazie onorevole Giuliano. Onorevole Ascari. Grazie Presidente. Signora Ministra, innanzitutto desidero ringraziarla per la sua presenza oggi qui in Commissione Giustizia. Vorrei sottoporre alla sua attenzione alcune problematiche relative alla violenza di genere, alla parità di genere, alla tutela dei minori e al contrasto alle mafie. Iniziando dalla violenza di genere, quest'ultima rimane una piaga sociale di gravità inaudita, come dimostrato dagli ultimi dati pubblicati dal Viminale. Un anno e mezzo fa abbiamo provato il Codice Rosso, uno strumento importante, ma che però deve essere integrato sia sotto il profilo della prevenzione che della repressione dei comportamenti e dei reati concernenti la violenza familiare e di genere. A tal proposito, ho presentato una proposta di legge, l'atto Camera 2680, recanto una serie di integrazioni all'impianto normativo della legge numero 69 del 2019. In particolare, sarebbe auspicabile l'ampliamento dei percorsi di recupero, anche di tipo psicologico, per gli uomini maltrattanti e in generale per i sex offenders nella fase di esecuzione della pena, così da combattere la recidiva, purtroppo particolarmente elevata, in relazione a questo genere di reati. Inoltre, credo sia fondamentale investire sulla formazione specifica e sull'aggiornamento continuo del personale chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e dunque forze dell'ordine, psicologi e magistrati. Riguardo invece al tema della tutele dell'affidamento dei minori, sarebbe importante accelerare l'iter della proposta di legge Atto Camera 2047, di cui l'esame in commissione è iniziato il 17 settembre 2019, affinché possa essere approvata prima della fine di questa legislatura in entrambi i rami del Parlamento. Un'altra proposta di legge che vorremmo vedere approvata definitivamente è quella che riguarda la prevenzione, il contrasto del fenomeno del bullismo e le misure rieducative per i minore, ad oggi purtroppo ferma al Senato. Riguardo al tema della parità di genere, andrebbe promossa la realizzazione di ambienti e servizi all'interno degli uffici giudiziari, da dibire a nidi per l'infanzia, iniziativa ormai imprescindibile nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale e con sicure positive ricadute in termini di incremento dell'occupazione femminile. Infine, per ultimo, ma non per questo di minore importanza, il tema del contrasto a tutte le mafie. Il recovery plan è anche ancora da ultimare, ma i soldi non sono ancora arrivati, però tre capitoli sono sotto i riflettori dei boss, la sanità, le grandi infrastrutture digitali e la riconversione energetica. Per questo è necessario potenziare le misure di prevenzione che possano recidere eventuali oscure con mistioni tra settori della pubblica amministrazione e ambienti mafiosi, l'implementazione del raccordo tra le banche dati, il potenziamento del sistema dell'interdittiva antimafia e il rafforzamento degli strumenti di indagine relativi in particolare ai controlli fiscali e patrimoniali nei confronti dei boss mafiosi. Visti gli ultimi episodi di cronaca, credo sia anche doveroso rafforzare il sistema di gestione e riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità. Non dimentichiamo infine i testimoni di giustizia e gli imprenditori onesti che non si sono piegati alle logiche dell'usura e del pizzo. Non vanno lasciati soli. Sono certa e confido che su questi temi ci sarà una sensibilità politica trasversale da parte di tutti i partiti e così come sono certa che il suo impegno sarà profondo e la sua attenzione sarà altissima. Grazie. Grazie onorevole Ascari, onorevole Di Sarno, la prego in sintesi estrema. Grazie. Grazie Presidente, buon pomeriggio Ministra. Come da lei ha accennato nella sua esaustiva relazione previsionale e programmatica, il 12 marzo scorso in Consiglio dei Ministri su sua proposta è stato emanato il decreto legge che disciplina le nuove modalità di svolgimento dell'esame 2020 di abilitazione forense. Alla luce di tanti chiarimenti che comprensibilmente sono pervenuti dagli aspiranti avvocati per questa inedita prova, vi chiedo se la data di inizio dell'esame offrirà un congruo tempo per la preparazione di questa inedita prova si è previsto dei criteri di valutazione predeterminati al fine di limitare un'eccessiva discrezionalità dei commissari. E infine, e concludo, le chiedo se c'è la prospettiva di giungere alla riforma radicale dell'esame di abilitazione forense anche alla luce della proposta di legge di Sarno e Miceli pronte per essere discusse in commissione sulla scorta anche delle audizioni terminate. Grazie. Grazie, onorevole di Sarno. Allora, ora passiamo al gruppo Lega. Onorevole Turri, prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Anch'io, ovviamente, ringrazio il Ministro per la relazione di materiale ne abbiamo parecchio infatti non è possibile in questo contesto insomma poter affrontare in maniera approfondita seguiranno anche gli interventi di altri due miei colleghi e io in inizialmente mi soffermo sull'aspetto delle riforme che ritengo che sia fondamentale e prioritario abbiamo una grande responsabilità e possibilità di modificare alcune delle regole che riguardano i processi civile e penale sono contento anche per la puntualizzazione fatta dal Ministro rispetto al fatto che non sono gli unici problemi non è che si risolvano i problemi solo cambiando alcune delle regole procedurali ma si parlava prima appunto di riorganizzare la macchina e credo che questo sia fondamentale anche dal nostro punto di vista rispetto a queste riforme appunto del processo civile che pende al Senato e del processo penale che è qui alla Camera è vero che il lavoro è stato un lavoro da una parte e anche dall'altra un lavoro molto approfondito prendiamo atto appunto di quanto ha confermato qui ma anche in altre occasioni della volontà di continuare da questo da quel lavoro senza vanificare quello che è stato fatto e anche per rispetto appunto al lavoro la nostra attività fatta in questi mesi e mi par di capire magari non so io l'ho capita così almeno che anche lei è del nostro del parere che le cose molte cose devono essere cambiate noi lo abbiamo detto più volte ma non solo perché la pensiamo in maniera diversa ma anche perché abbiamo avuto modo di ascoltare i professionisti che sono venuti in audizione molte critiche sono state sollevate non solo da avvocati ma anche magistrati e da professori e quindi è evidente che è fondamentale che i prossimi prossime settimane siano fondamentali perché le modifiche da fare a nostro avviso sono devono essere molteplici non risolviamo il problema del tempo e del processo civile cambiando nome o dato introduttivo dal dato di citazione al ricorso come è previsto una delle cose che venivano vendute come una soluzione dei problemi come tanti altri problemi noi riteniamo che siano altre le azioni da mettere in campo lo stesso anche per la riforma dell'ordinamento giudiziario anche in questa riforma in questa delega le audizioni che abbiamo svolto fino ad oggi ci mostrano insomma una preoccupazione da parte da molti che quella delega possa risolvere realmente i problemi che ci sono oggi e quindi riteniamo fondamentale che vengano portate delle modifiche e lei ha puntualizzato che ci sono già dei gruppi di lavoro che stanno lavorando su queste modifiche lo dico ma credo che sia già sottointeso rivadiamo insomma che è evidente che il lavoro di questi gruppi debba essere condiviso anche con Camera e Senato per arrivare appunto il più possibile a un lavoro condiviso poi anche perché si riesca a lavorare nel migliori modi e cercando di andare più velocemente possibile quindi noi il nostro gruppo è assolutamente a disposizione è disponibile per appunto lavorare in modo tale che si possa apporre quelle modifiche necessarie la ringrazio grazie onorevole Turri onorevole Tateo prego grazie presidente grazie ministro per la sua relazione guardi io come vorrei riporre l'attenzione però su altri argomenti che sono comunque molto cari alla componente politica a cui appartengo che è la Lega innanzitutto questa pandemia ci ha messo di fronte ad un'urgenza ed è emergenza come ha ben detto lei che riguarda il processo telematico ad oggi il processo telematico è completamente inefficiente non è possibile che il processo telematico non funzioni nei weekend dove maggiormente comunque ci sono comunque delle scadenze che devono essere rispettate per cui la digitalizzazione come informatica deve essere più veloce c'è stato un periodo in cui il processo telematico in particolar modo nel sud è stato bloccato per un'intera settimana per cui si è andata avanti ad email chiedendo aiuto alle cancellerie le quali cancellerie non sapevano neanche cosa rispondere poi sempre sempre una materia di carattere tecnico sono gli sfratti dobbiamo nel prossimo provvedimento che faremo capire comprendere come dobbiamo affrontare questa situazione perché sono tante le famiglie che sono in difficoltà economica proprio perché c'è stata comunque questa sospensione altro punto fondamentale a cui come lega noi tagliamo è il codice rosso il codice rosso per noi è importante questa normativa è stata voluta fortemente dalla Buongiorno e da Matteo Salvini è un'innovazione per cui realmente noi vogliamo che il codice rosso non venga tutelato dal suo ministero cosa che è mancata nella sua relazione è l'edilizia giudiziaria ministro io provengo l'edilizia giudiziaria in tutti i tribunali abbiamo diverse difficoltà ormai i tribunali sono faticenti ma in particolar modo io purtroppo devo esprimere le difficoltà che abbiamo noi avvocati del foro di Bari ho iniziato questa legislatura con il primo e unico provvedimento che è stato sottoposto che è stato il cosiddetto battezzato decreto Bari la giustizia nella mia città è finita sotto le tende ministro ad oggi non abbiamo ancora una soluzione la soluzione ci sarebbe sono state tantissime le proposte si parla di cassermette di altre soluzioni che non rientrerebbero neanche nel recovery perché i lavori sono prolungati noi abbiamo anche la possibilità di un vecchio progetto che è il progetto Pizzarotti per cui quello che le chiedo ministro è quello proprio di avere almeno un parere anche da parte dell'avvocatura dello Stato e comprendere realmente qual è il progetto più veloce il progetto che realmente possa far risparmiare i cittadini e il progetto che possa realmente dare a Bari e agli avvocati ai magistrati ai giudici e a tutti gli altri operatori del diritto realmente un palazzo di giustizia dove si possa realmente lavorare con tranquillità questo è per noi questa è una battaglia fondamentale ma non solo per quanto riguarda Bari ma anche per quanto riguarda tutte le altre sedi giudiziarie e ovviamente anche l'edilizia carceraria ci sono tantissime carceri che sono realmente al cioè non possono essere definite tali perché sono comunque vecchie obsolete e ci sono anche delle carceri che sono nuove ma che non sono mai state messe in funzione per cui insieme cerchiamo comunque di collaborare di comprendere bene come spendere questi soldi perché questi soldi rappresentano la spesa di questi soldi rappresenta il futuro della giustizia italiana che come ha ben detto lei è una giustizia lenta è una giustizia obsoleta che non risponde ai tempi la ringrazio Ministro grazie onorevole Cateo onorevole Morrone grazie Ministro grazie della sua disponibilità e grazie anche di essersi alzata in piedi questa prima audizione nei nostri confronti l'abbiamo molto apprezzata io nei miei pochi minuti a disposizione a nome del gruppo Lega vorrei sottoporle in particolare tre quattro temi quindi cercherò di essere abbastanza schematico il primo è quello della magistratura della riforma della magistratura onoraria abbiamo detto sulla stampa che sembra avvicinarsi la stabilizzazione e che lei vuole prima comunque attendere quella che è la pronuncia della Corte Costituzionale ovviamente ciò Ministro sarebbe il coronamento della richiesta più ambiziosa per la magistratura onoraria quindi il riconoscimento delle ferie della maternità della malattia del TFR di un trattamento economico equivalente a lavoratori che svolgono funzioni analoghe posto che Ministro è urgente varare la riforma per dare una risposta concreta a quelle che sono legittime richieste della magistratura onoraria che da tempo è in fermento il punto due Ministro riguarda una riforma qui sta tanto a cuore al gruppo della Lega che è una riforma non rinviabile della polizia penitenziaria di cui posso così enunciare qui velocemente alcuni punti fondamentali ne cito tre per tanti altri l'inserimento in ruolo nell'ambito del corpo della polizia penitenziaria di medici e psicologi anche per contrastare così il tragico fenomeno dei suicidi che colpisce in maniera molto severa il personale della polizia penitenziaria fornire e rinnovare l'equipaggiamento degli agenti della polizia penitenziaria bodycam e taser il reato di tortura definire Ministro le modalità operative di intervento del personale di polizia penitenziaria perché è necessario verificare e aprire un dibattito perché c'è un pericolo concreto che venga questo utilizzato per intimidire e minacciare agenti che svolgono onestamente il proprio lavoro mantenendo saldo sempre il principio che chi commette un reato deve essere sanzionato è altrettanto valido il principio che gli agenti della polizia penitenziaria devono sentire lo Stato e il Ministro della Giustizia al loro fianco sempre il terzo punto è l'equo compenso è un tema a cui vorrei sottoporle perché valorizza quella che è l'attività dei professionisti che hanno un peso importante e un ruolo fondamentale nella società visto che è già stato incardinato proponiamo in questa commissione il PDL che reca fra l'altro anche la mia firma attocamera 2192 le chiederei un suo autorevole parere e nel caso un forte sostegno perché l'iter proceda su binari sicuri e veloci io concludo il mio intervento col quarto punto ne ha parlato poco fa il collega dell'esame d'avvocato e faccio mie quelle che sono alcune domande che forse possono essere banali ma sono domande importanti che stanno tenendo in sospeso migliaia di giovani in questo momento mi è stato richiesto se nella prima prova orale volta ad attestare la capacità di risoluzione da parte del candidato di un caso pratico la questione pratico applicativa consiste in un atto o in un parere e se in ognuna delle tre buste sono contenute entrambi se entro 30 giorni dalla pubblicazione del DL in gazzetta ufficiale verranno comunicate le date d'inizio se le modalità di scelta sarà sempre estrazione di una lettera per iniziare e se sì quali sono le tempistiche stimate per lo smaltimento del primo orale per tutti e fin di poter procedere con la seconda prova se le modalità per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense rimarranno quelle anche per un eventuale prossimo bando se verrà indetto un nuovo bando a dicembre oppure a settembre gli esami di magistratura rimarranno nella modalità classica o se si farà anche quello con modalità orale rafforzato e infine se indiranno un altro concorso per la magistratura e nel caso se si propensi per una data in autunno oppure direttamente al 2022 si indicano un altro concorso in carriera prefettizia perché ancora in corso il vecchio non si sa in quale stadio sia lo so sono forse domande più semplici che però coinvolgono migliaia di giovani o di giuristi che in questo momento stanno aspettando delle sue risposte intanto la ringrazio per averlo sbloccato grazie onorevole Morrone PD onorevole Bazzoli prego a lei la parola si sente grazie signora ministra grazie presidente della parola lei signora ministra ha parlato di una situazione eccezionale quella in cui ci troviamo e lo ha ricordato giustamente è una situazione eccezionale che si riflette anche nella eccezionalità del quadro politico siamo dentro una maggioranza molto ampia molto larga molto inedita direi abbastanza inedita nella storia recente della Repubblica questo ci offre una grande una finestra di opportunità perché noi oggi proprio perché abbiamo una maggioranza così larga forse siamo nelle condizioni di affrontare alcuni temi strategici anche per quanto riguarda la giustizia al riparo un po' dalle come dire contrapposizioni anche molto spesso di natura ideologica che soprattutto sul campo della giustizia si sono registrate in questi ultimi anni io sono qui da otto anni e mi pare mi sono sempre occupato di questi temi e non ho mai trovato o raramente ho trovato la possibilità di poter discutere serenamente nel merito delle questioni perché molto spesso le questioni erano invece agitate in maniera un po' strumentale dall'una e dall'altra parte oggi noi abbiamo una finestra di opportunità perché oggi dentro questo contesto come dire di larga maggioranza io penso che invece siamo in grado forse di affrontare in maniera più efficace le grandi questioni che riguardano i temi della giustizia che lei ha elencato io penso in modo puntuale anche dicendo una cosa che noi condividiamo cioè che siccome il tempo che abbiamo di fronte non è tantissimo conviene concentrarsi sulle priorità e conviene farlo con grande spirito fattivo cercando di arrivare a degli obiettivi perseguibili quindi senza mettere troppa carne al fuoco ma cercando di raggiungere degli obiettivi che siano effettivamente raggiungibili quindi noi condividiamo questo suo approccio e condividiamo anche il metodo che lei ci ha oggi annunciato e descritto e cioè quello di non buttare a mare tutto quello che è stato fatto in questa legislatura ma anzi in particolare dall'ultimo governo ma anzi cercando di valorizzare tutta l'attività e il lavoro che è stato fatto anche in questa commissione perché sarebbe un errore ripartire da zero e anzi ripartire da zero probabilmente rischerebbe di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati quindi noi condividiamo anche questo metodo partiamo da quello che c'è partiamo dal lavoro che è stato fatto partiamo in particolare dai disegni di legge presentati dallo scorso governo perché da lì c'è una base di partenza utile per lavorare e per arrivare ad un obiettivo e proviamo a vedere se su quelli si riesce a trovare una condivisione più larga magari anche attraverso alcune modifiche o alcuni interventi che possono mettere d'accordo tutti lei ha annunciato la formazione di gruppi di lavoro interi al ministero che debbano coadiuvarla nella elaborazione anche di eventuali modifiche e ovviamente questo è nelle sue prerogative gliel'abbiamo già detto lo ribadisco ma lei lo ha peraltro opportunamente precisato nella sua relazione introduttiva è molto importante che ci sia uno scambio costante tra i gruppi di lavoro il ministero e i gruppi parlamentari perché questo ovviamente faciliterebbe il compito che abbiamo di fronte quindi noi condividiamo questo approccio condividiamo il metodo condividiamo questa ipotesi di lavoro che lei ha impostato abbiamo ovviamente anche noi alcune come dire alcune indicazioni io qui mi sono segnato mi ero segnato un po' di come dire di indicazioni di punti sui quali noi riteniamo occorra in particolare lavorare peraltro le dico subito che molti di questi punti lei li ha già in qualche modo toccati quindi questo evidenzia una sintonia di fondo anche sulle questioni sulle quali è bene lavorare intanto sul recovery ovviamente noi abbiamo questo grande tema oggi che è quello dell'impegno delle risorse straordinarie che ci sono state destinate dall'Europa e che sono un'occasione irripetibile certamente irripetibile anche sul campo della giustizia irripetibile perché risorse così ingenti e così straordinarie probabilmente non le vedremo più in tempi così rapidi quindi noi abbiamo la necessità di utilizzarle bene queste risorse e noi condividiamo qui la sua idea di anche qui valorizzare quanto era già stato in qualche modo previsto dal governo precedente nel piano del PNRR del governo precedente perché lei ha parlato di ufficio del processo esattamente una parte rilevante di queste risorse andava all'ufficio del processo ha parlato di digitalizzazione e una parte di queste risorse si devono andare lì ha parlato di uffici giudiziari e anche noi riteniamo che vada lì una parte di queste risorse con un obiettivo che deve essere molto chiaro e che io voglio qua ribadire noi dobbiamo darci come obiettivo misurabile quello di impiegare queste risorse per consentire l'azzeramento dell'arretrato civile e penale che oggi pesa come un debito pubblico sul funzionamento della giustizia italiana noi dobbiamo darci questo obiettivo davanti agli italiani assumendoci una responsabilità noi dobbiamo azzerare nell'arco di funzionamento diciamo dell'arco temporale del recovery plan e cioè i cinque anni fino al 2026 dobbiamo darci come obiettivo l'azzeramento dell'arretrato civile e penale perché questo consentirebbe di liberarci di una grande zavorra che pesa sull'efficienza del nostro sistema e in particolare sulla durata dei processi che è il tema numero uno e il tema principale quindi su questo noi siamo assolutamente in linea con le sue proposizioni perché sono quelle che in parte anche appunto erano già state indicate dal precedente governo sulla riforma del processo penale e del processo civile anche qui noi cogliamo con favore alcune delle cose che lei ha detto nella sua redazione sul processo penale è fondamentale incentivare i riti alternativi al dibattimento perché altrimenti non usciremo mai da questa condizione di difficoltà degli uffici giudiziari e questo è uno dei grandi limiti del nostro processo simile accusatorio che non funziona proprio perché i riti alternativi non funzionano quindi bisogna assolutamente perseguire quella strada c'è nel disegno di legge della riforma del processo penale una parte significativa dedicata a questo troviamo una convergenza su questo obiettivo e lavoriamo allacrementi in quella direzione perché è l'unico modo per deflazionare gli uffici e quindi accelerare i tempi riteniamo fondamentale lei l'ho ricordato lo ribadisco riteniamo fondamentale introdurre una disciplina puntuale sul controllo dei tempi delle indagini preliminari e sulla riduzione di quell'area grigia dei tempi che vanno dalla fine delle indagini preliminari alla richiesta di rivio a giudizio perché quello è uno dei nodi sui quali si dipana anche la lunghezza eccessiva dei procedimenti penali quindi su quello nel disegno di legge delega c'è una parte io penso che quella debba essere attentamente valutata e valorizzata ancora incrementare gli strumenti di giustizia riparativa io penso che come in altri ordinamenti noi pensiamo che come in altri ordinamenti occorra lavorare molto su uno strumento che è poco valorizzato lei mi pare che ne abbia fatto un cenno e noi siamo d'accordo incrementare lo strumento dell'archiviazione condizionata cioè di quello strumento deflattivo che consente di deflazionare i procedimenti penali attraverso l'assunzione di obbligazioni da parte dell'imputato e l'adempimento delle quali possa consentire l'archiviazione del procedimento questo è per un verso giustizia riparativa perché si passa attraverso adempimenti di obbligazioni che servono appunto come giustizia riparativa ma serve anche a deflazionare il processo quindi questo è uno strumento da valorizzare noi le chiediamo di andare molto in quella direzione sul processo civile noi condividiamo anche qui l'idea che si debba lavorare soprattutto sull'organizzazione del processo e attenzione qui quando si parla di digitalizzazione digitalizzazione significa non solo trasformare i documenti cartacei in file che si inviano ai giudici e viceversa ma digitalizzazione significa anche valorizzazione dei dati valorizzazione delle statistiche dei dati che attraverso la digitalizzazione possono consentire anche di fare una valutazione puntuale delle performance degli uffici della capacità organizzativa degli uffici anche questo significa digitalizzazione quindi bisogna lavorare molto in quella direzione se riteniamo che l'organizzazione degli uffici sia fondamentale come noi riteniamo per l'efficienza della giustizia civile quindi lavoriamo molto in quella direzione e le suggeriamo proviamo a valorizzare anche come forma di deflazione degli uffici professionisti ed esperti su alcune materie per esempio la volontaria giurisdizione che oggi è tutta in capo diciamo agli uffici giudiziari io penso che noi pensiamo che una parte rilevante della volontaria giurisdizione quella non contenziosa quella che non riguarda diritti indisponibili possa essere tranquillamente devoluta a professionisti perché questo libererebbe una parte rilevante del carico di lavoro degli uffici giudiziari e ancora il CSM lei lo ha indicato anche noi riteniamo fondamentale portare a termine il disegno di legge che è stato incardinato dallo scorso governo gli obiettivi sono molto chiari noi li condividiamo primo obiettivo una legge elettorale che consenta un arretramento delle correnti dei magistrati nel condizionamento del funzionamento del CSM valutiamo qual è il migliore ma quello deve essere l'obiettivo da perseguire poi lo sappiamo benissimo che è impossibile non è la legge elettorale che consentirà di eliminare del tutto l'influenza delle correnti ma facciamo in modo che arretri il condizionamento delle correnti e in secondo luogo una disciplina che consenta di forse non eliminare ma limitare il cosiddetto carrierismo dei magistrati perché il carrierismo dei magistrati ha creato guasti alla nostra magistratura e noi dobbiamo creare una normativa e nel disegno di legge all'esame di questa Camera ci sono dei criteri per la nomina dei vertici degli uffici giudiziari per la selezione dei magistrati che aiutano a smontare un po' diciamo di quei criteri che invece troppo discrezionali hanno garantito il carrierismo io penso che quello sia un altro degli obiettivi da perseguire e chiudo Presidente mi scuso se mi sono dilungato troppo e doveva esserci il mio collega Everini purtroppo è dovuto andare via quindi farò io la sua parte da ultimo Ministro noi riteniamo fondamentale e ci fa piacere che anche lei lo abbia detto completare completare la riforma dell'ordinamento penitenziario che era stata impostata nella scorsa legislatura fondamentale perché noi abbiamo bisogno di carceri moderne quindi bisogna intervenire sulle carceri italiane che sono molto spesso vetuste e antiquate io vengo da Brescia e purtroppo a Brescia abbiamo un carcere che è un disastro da questo punto di vista uno dei peggiori d'Italia quindi bisogna certamente modernizzare ma noi se vogliamo un sistema dell'esecuzione penale moderno dobbiamo puntare sulle misure alternative alla detenzione che impediscono la recidiva che consentono il recupero del condannato dobbiamo lavorare in quella direzione e in quella direzione noi intendiamo lavorare e se lei diciamo ci aiuterà a raggiungere quell'obiettivo ovviamente ci avrà al nostro fianco quindi le auguriamo ovviamente buon lavoro e noi speriamo di raggiungere anche solo la metà di questi obiettivi che ci siamo dati nei prossimi mesi grazie grazie onorevole Bazzoli allora il gruppo di Forza Italia onorevole Zanettina lei la parola prego grazie presidente voglio dare anch'io il benvenuto alla nuova ministra a nome di tutto il gruppo di Forza Italia noi aggrammo grande fiducia in lei ministra perché noi non possiamo da garantisti quali siamo non apprezzare la sua cultura costituzionale che per noi è una garanzia di un cambio di passo rispetto ad una stagione manettara che noi abbiamo sempre contestato in modo molto netto ho poco tempo a disposizione quindi cercherò di entrare direttamente nei vari temi che ci sono cari il primo punto prescrizione tema di grande rilevanza anche mediatica abbiamo molto apprezzato il suo intervento poc'anzi nel quale ha ricordato l'ordine del giorno e il suo diretto impegno all'attuazione in tempi molto rapidi per noi questo è un elemento di grande soddisfazione perché indica un mutamento rispetto a quelle che sono state le pratiche passate e un cambio di rotta alla luce di una nuova sensibilità politica di questa nuova maggioranza CSM sistema elettorale ecco lei ministra ha citato le diverse opzioni sul tavolo mi è spiaciuto che fra le opzioni che lei ha citato non abbia citato quella di Forza Italia che è quella del sorteggio temperato ora io credo che se vogliamo come abbiamo detto tutti davvero limitare l'ingerenza delle correnti l'unico sistema che ha la possibilità di incidere davvero è quello del sorteggio sul valore catartico del sorteggio è intervenuto mi pare domenica l'altra Gian Domenico Stella sul Corriere della Sera sulla valenza di questo sistema la scorsa settimana è intervenuto il suo collega professor Ainis il quale come dire lo ha fra gli altri sdoganato dal punto di vista costituzionale io credo che una riflessione su questo tema sia importante lei nel suo intervento ministra ha detto che non vuole disperdere il lavoro fatto e in particolare ha sostenuto l'opportunità delle leggi delega io le rammento che per quanto riguarda il CSM in particolare l'aspetto della legge elettorale la legge delega temo che sia il veicolo legislativo meno adatto perché il nuovo sistema cioè le nuove elezioni del CSM avranno luogo fra poco più di un anno e rischiamo davvero di perdere il treno perché il percorso è accidentato ho tenuto conto che la legge ancorché approvata poi necessita dei decreti di attuazione rischiamo di arrivare fuori tempo massimo tra l'altro lei credo abbia abbia visto che all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura del Plenum di mercoledì prossimo c'è il parere è un parere di 190 pagine della Sesta Commissione assai critico che sia difficile che questa legge di criticità che presenta sotto molteplici aspetti possa arrivare a termine in tempi rapidi quali tutti auspicheremmo da ultimo tocco un tema che lei ha toccato se non molto marginalmente che però è il mio caro quello degli sfratti il blocco degli sfratti io ho colto una parola nel suo intervento quando ci sarà il blocco degli sfratti io credo che non possiamo attendere molto su questo fronte ricordo che anche su questo tema la Commissione Giustizia all'unanimità pressoché aveva raggiunto un ordine del giorno su almeno una parziale sblocco del blocco per quanto riguarda le morosità post-covid è stato poi anche in questo caso chiesto un ordine del giorno perché lei doveva riflettere però dalle informazioni che ci giungono anche relativamente al prossimo decreto sostegno pare che questo tema non sia contenuto io vorrei invitarla a prendere in esame questo tema in maniera precisa grazie Presidente grazie a lei onorevole Zanettino onorevole Bartolozzi prego grazie Presidente benvenuta Ministro Cartabbia ho cambiato sentendola il tema dell'intervento perché ho raccolto Ministro nel suo discorso delle cose delle parole che per me e credo per tutto il gruppo siano centrali e che denotano veramente la cultura della giurisdizione ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide principi costituzionali al centro del dibattito e centralità del Parlamento non sono tre frasi fatte sono una dimostrazione di quello che dovrà essere e credo sarà il suo e il nostro lavoro quindi il metodo del nostro lavoro e per restare al metodo Ministro non voglio entrare sui singoli temi ma vorrei porre all'attenzione una sua alla sua attenzione una mia riflessione sperando che poi questa possa essere centrale nel dibattito in materia di recovery plan e cioè sud è giurisdizione al sud Ministro Cattabia lei Presidente della Corte Costituzionale sa perfettamente nessuno di noi lo ricordiamo a noi stessi che non si possono trattare con uguali misure situazioni differenti e purtroppo quello della giurisdizione al sud è un tema sensibile poco affrontato io lì ho fatti i miei vent'anni di giurisdizione e chi come me è stato giudice al sud sa bene che non è un problema né di piante organiche né di inoperatività dei magistrati che vanno a lavorare anzi la maggior parte di loro sono più operiosi degli altri quindi abbiamo in termini di produttività numeri molto più alti ma purtroppo per quello che lei diceva bene Ministro che lei ricordava bene fattori endogeni ed esogeni la giurisdizione al sud è sicuramente più lenta di quella che è al nord e anche al centro e questo si riflette in quella che lei chiamava relazione tra giurisdizione ed economia allora Ministro io mi permetto di suggerire tre cose su questo tre riflessioni da parte sua metodo di gestione efficiente mi è piaciuta il richiamo all'ispettorato a ripensare l'ispettorato a cosa fa l'ispettorato dell'ufficio di ispettorato presso il Ministero ma la mia idea era un po' di riprendere il grande lavoro che aveva fatto il presidente Barbuto quando era capo del DOG un ottimo lavoro di analisi di monitoraggio purtroppo è mancata la fase della ricaduta cioè l'applicazione pratica di quel grande lavoro e allora le chiedo task force a sud task force che siano fatte un po' a livello a livello centrale potrebbe essere bene come le indicava l'ispettorato a livello locale Ministro occorre un po' come il court manager delle corti quello a livello centrale ma insomma delle corti statunitense cioè un super dirigente potrebbe essere esterno io non confido che solo il dirigente possa degli uffici possa risolvere il problema perché purtroppo la pratica di questi anni ce ne ha dato una triste una triste dimostrazione è in merito non credo neanche che debba essere necessariamente un dirigente esterno potrebbe essere veramente un nucleo un nucleo di affiancamento mandato dal Ministero non solo per fare l'analisi e il monitoraggio dei dati ma per indicare a quel dirigente quali sono le buone pratiche che si devono ecco per tornare al discorso delle best practice che le faceva quindi sicuramente a livello centrale a livello locale cosa ne pensa poi gli incentivi all'ufficio lei l'ha detto non si possono certamente dare incentivi ai singoli magistrati ma probabilmente sia all'ufficio quello che si fa già nella tributaria per i giudici tributari prevedere che all'ufficio nel caso in cui tu raggiungi i livelli di efficienza ti venga dato un tot in termini di primialità questo potrebbe spingere non solo i magistrati a agire meglio ma a spingere tutto l'ufficio quell'ufficio del giudice di cui le parlava quindi cancellerie personale amministrativo e il giudice a fare meglio e a fare di più ancora come terzo punto un potenziamento di quello che è il lavoro fatto dal direzione giornale delle statistiche bene sì il rilevamento dei dati bene sì le buone pratiche ma c'è poco condivisione di quello che sono attualmente le buone pratiche portate a livello ministeriale io per quel che sono i miei ricordi quando ero in Sicilia non c'era il giudice al sud si sente giudice singolo solitario per cui già c'è difficoltà a relazionare con il collega della porta accanto che quasi mai si trova perché si finisce di lavorare e si va via c'è difficoltà a relazionarsi con i dirigenti dell'ufficio allora occorre una maggiore veicolazione delle informazioni quindi sia la best practice ma rimane il problema che queste non vengono veicolate al sud a livello dei singoli giudici ecco quello del e chiudo ministro Cartabia quello della giurisdizione al sud credo che debba essere uno dei punti nevralgici in materia di recovery gran parte di quelle risorse vengono pervengono al sud proprio lei lo sa benissimo per coprire quel gap che c'è tra nord e sud credo che la giurisdizione da questo punto di vista dovrebbe al sud dovrebbe avere ecco una primialità maggiore quindi da parte mia la richiesta di far sì che venga trattato la giurisdizione al sud di tribunale al sud in maniera diversa da quelli del centro e del nord grazie sì onorevole Bartolozzi grazie a lei onorevole Siracusano prego grazie presidente grazie ministro benvenuta e buon lavoro e le porrò brevemente tre questioni visto che il tempo è poco le prime due che hanno già acquisito un'ampia convergenza in Parlamento nell'ultima legge di bilancio la commissione giustizia aveva proposto un emendamento che poi la commissione bilancio non ha colso per problemi evidentemente relativi alle coperture che trattava sull'istituzione di un fondo per ristorare le imprese dissequestrate che sono quelle imprese che sono destinatari di una misura di prevenzione di natura reale poi revocata e come ben sappiamo queste imprese versano poi quando vengono restituite ai legittimi proprietari in condizioni economiche disastrose irreversibili fallite quindi diciamo che sarebbe opportuno riprendere questo tema e portarlo avanti poi un altro aspetto importante sempre approvato è la legge di bilancio diciamo noi siamo riusciti veramente a sancire un principio di civiltà giuridica attraverso una misura che è stata approvata che punta risarcimento delle spese legali per gli imputati assolti con formula piena anche a chi grazie all'onorevole Zanettino e all'onorevole Costa siamo riusciti a far approvare questo emendamento con ampia convergenza delle forze parlamentari il problema è che purtroppo Ministro per far sì che non sia semplicemente una misura simbolica è necessario che venga coperta con maggiori risorse finanziarie perché siamo riusciti soltanto a metterci 8 milioni che per il numero di imputati assolti con formula ampia nel Paese che si aggirano intorno a 90.000 l'anno almeno questi sono i dati che pervengono dal Ministero si rende conto che diverrebbe veramente una misura simbolica che si aggira intorno agli 88 euro a persona per cui ecco sarebbe importante proseguire in questa direzione con interventi più incisivi la terza domanda che le pongo è se ritenga opportuno visti i fatti che lei ha richiamato prima in riferimento anche all'opportunità di riformare l'autogoverno il CSM il funzionamento della magistratura se secondo lei sia opportuno costituire una commissione parlamentare d'inchiesta per appunto approfondire i meccanismi di trasparenza per l'attribuzione degli incarichi a seguito dei fatti che hanno riguardato la radiazione dell'ex presidente dell'ANM e la dimissione di alcuni componenti del CSM su questo c'è già una proposta di legge depositata da Forza Italia sia alla Camera e al Senato grazie Sì grazie grazie onorevole Siracusano onorevole Giannone che è collegata da remoto prego onorevole Giannone Sì buonasera la prego di attivare anche il video grazie prego perfetto grazie mille benvenuta Ministra e cercherò di essere veloce anch'io senza riprendere tutte quelle che sono i temi già discussi vorrei concentrarmi principalmente su due temi uno che riguarda l'ambito familiare e principalmente l'affido dei minori e l'altro invece legato al femminicidio le donne tutto l'ambito legato purtroppo alla violenza di genere per quanto riguarda l'ambito familiare quindi minorire la tutela dei minori personalmente mi sono occupata di tantissimi centinaia di casi legati a problematiche sull'allontanamento dalla famiglia d'origine che viene disposto diverse volte non soltanto in casi di estrema gravità così come previsto dalla legge o secondo quanto raccomandato ma in realtà utilizzando come uniche motivazioni dei costrutti giuridici ascientifici che possono essere quello della relazione parentale madre simbiotica piuttosto che adesiva o quant'altro diciamo che sono tutti dei costrutti che non hanno non sono definiti sindrome o patologie così come dichiarato anche dal ministro della salute e quindi prive di fondamento scientifico nessun tipo di malattia mentale o qualsiasi cosa potrebbe andare lontanamente a diventare un pericolo per il minore eppure seppur è una costruzione psicoforense viene utilizzata sempre e spesso all'interno dell'ambito giudiziario come unica motivazione quindi unica base per la quale allontanare il minore dell'ambito familiare nella maggior parte dei casi inserito all'interno delle comunità cosiddette case famiglia tutto questo tra l'altro la Cassazione Civile con sentenza del 2019 stabilì che qualora la consulenza tecnica presentasse devianze dalla scienza medica ufficiale come appunto avviene nell'ipotesi che le presentavo e quindi con diagnosi di sussistenza di un'azione genitoriale o simili non essendovi ancora certezza nell'abito scientifico al riguardo il giudice del merito ricorrendo alle proprie condizioni scientifiche può avvalersi pur avvalendosi di doni esperti o comunque tenuto a beneficarne il fondamento utilizzando mezzi di prova tra cui anche l'ascolto del minore che sempre più spesso non avviene se non comunque dopo i 12 anni o tante volte neanche dopo quell'età quindi tutte queste problematiche purtroppo non permettono di avere una reale tutela nei riguardi dei minori scusi onorevole Giannone mi permetto di sottolineare che dovrebbe andare a sintetizzare se possibile a concludere l'ultima domanda è concludere certo questo per quanto riguarda la questione dei minori quindi io volevo sapere che cosa pensa la ministra e come vuole approfondire la situazione l'altra invece legata alla violenza contro le donne per quanto riguarda soprattutto quello che abbiamo visto accadere nell'ultimo periodo c'è quello della del del covid e quindi dell'emergenza soprattutto in virtù del fatto che lei stessa aveva dichiarato che bisogna appunto avere una strategia di ascolto ai primi segnali della potenziale vittima e quindi della violenza subita cosa che invece purtroppo abbiamo visto sempre di più che non sta funzionando molte volte infatti non viene ascoltata la denunciante e anche lo stesso Unione Europea a ottobre ha scritto un documento dove appunto ci diceva che erano troppe le archiviazioni in questi casi anche su questo argomento vorrei avere un'opinione da parte della ministra grazie mille Sì grazie onorevole Giannone onorevole Costa Gruppo Misto ha lei la parola prego grazie presidente ministra mi ha fatto piacere una cosa in particolare il garbo che ha dimostrato nei confronti del Parlamento perché le cose che ha detto oggi le sue linee programmatiche le ha dette per la prima volta in Parlamento non ce le ha anticipate sui giornali non ha fatto interviste non ha fatto articoli questo è un aspetto importantissimo guardi molto più di altri elementi altrettanto condivisibili e devo dire che la sua profonda sensibilità nei confronti della vita umana dimostrata in molte prese di posizione da presidente della Corte Costituzionale da giudice costituzionale io penso che la porti a considerare i tanti numeri che vengono declinati nelle statistiche sulla giustizia non soltanto come numeri ma come persone come vite come famiglie come lavoratori come storie che hanno a che fare con il sistema della giustizia e quindi io citerò dei numeri sempre però evidenziando che dietro questi numeri si celano tante storie perché i numeri sono comunque importanti e voglio partire dal procedimento penale e sul procedimento penale partire raccontare la storia di un procedimento penale non tanto un procedimento penale tipo ma un procedimento penale come ce ne sono molti e sulla rilevanza esterna di ogni passaggio e di ogni atto del procedimento penale ecco come viene comunicato all'esterno l'inizio di un procedimento penale mi ha colpito molto e ho apprezzato molto che lei ha citato il riservo nell'avvio delle indagini perché l'avvio delle indagini può essere comunicato all'esterno con una misura cautelare con una misura reale con un invito a comparire con un avviso di garanzia e da quel momento per chi rimane impigliato in un procedimento penale nulla è come prima sulla sua pelle si forma una ferita più o meno marcata a seconda di come viene comunicato e declinato all'esterno questo avvio dell'indagine sempre più spesso la sequenza è questa una notifica dell'atto all'alba un'agenzia dopo un paio d'ore una conferenza stampa a metà mattinata io le cito i numeri degli arresti 54.671 persone in un anno in custodia cautelare e soltanto l'85% dei tribunali ha risposto quindi sono molti di più 31.000 sono in carcere e 23.000 i domiciliari ebbene più del 20% di queste persone non dovrebbe essere arrestata o perché sono assolti alla fine del procedimento con sentenza definitiva o perché ottengono la sospensione condizionale della pena e il giudice quando si prevede che possa essere applicata la sospensione condizionale della pena non dovrebbe arrestare le persone conferenza stampa dicevo quella della metà mattinata abbiamo addirittura i video i trailer delle indagini delle perquisizioni degli arresti abbiamo il nome alle inchieste ma è normale che le procure decidano il nome da dare alle inchieste abbiamo i dettagli abbiamo l'ordinanza con dentro le intercettazioni purtroppo nell'ultimo decreto sulle intercettazioni si è previsto di poter pubblicare interalmente e letteralmente le ordinanze di custodia cautelare prima era previsto solo per il contenuto era vietato pubblicarle alla lettera ma dentro le ordinanze ci sono le intercettazioni tra l'altro intercettazioni non ancora periziate noi abbiamo 130.000 bersagli di intercettazione l'anno durata delle intercettazioni 57 giorni le telefoniche 72 le ambientali con 10 che potrebbe essere assunto ed è stato citato la direttiva sulla presunzione di innocenza del 343 del 2016 dice questa direttiva che l'indagato non deve essere mai presentato come colpevole basta ascoltare le conferenze stampa e diciamo le comunicazioni giudiziarie per verificare che nel nostro paese c'è ancora molto da lavorare nella legge di delegazione europea c'è l'occasione per recepirla già la prossima settimana e sono convinto che sarebbe un voto unanime perché del merito c'è assolutamente accordo e l'auspicio è che veramente il governo sostenga questo percorso noi abbiamo lo dicevo la comunicazione giudiziaria che crea una ferita e questa ferita può creare una cicatrice che rimane anche se c'è la soluzione noi abbiamo 121.900 persone che sono assolte in primo grado dopo un processo che dura quattro anni queste 120.000 persone hanno dovuto difendersi è un conto se hanno dovuto farlo nel riservo del procedimento un conto se sono finite sui giornali se ovviamente hanno dovuto dichiararlo al lavoro hanno dovuto comunicarlo all'esterno lo sono venuti a sapere i compagni dei figli e gli amici di famiglia ecco con la soluzione di fronte a una comunicazione giudiziaria distorta non si recupera abbiamo addirittura mille persone l'anno quasi 30.000 dal 92 ad oggi persone che sono state assolte dopo essere state incarcerate che hanno ottenuto la riparazione per errori giudiziari e per ingiusta detenzione significa che forse lo Stato dovrebbe anche riavvolgere il nastro e andare a verificare perché ci sono stati questi errori questo non viene mai fatto perché il fascicolo dalla diciamo dalla corte d'appello che dichiara la riparazione per ingiusta detenzione non transita mai sulla scrivania del titolare dell'azione disciplinare anche in questo senso secondo me bisognerebbe ottenere un risultato il fascicolo rimane molto spesso nelle mani delle procure quindi tu hai la comunicazione all'esterno che sei indagato ma la sentenza non arriva ma non arriva neanche la decisione della procura molto spesso si concludono le indagini periminali i fascicoli rimangono in procura nella scorsa legislatura si è detto ebbè prevediamo la vocazione del procuratore generale quando i fascicoli rimangono lì sapete quante vocazioni ci sono state lo scorso anno 65 l'anno precedente 104 è ridicolo è ridicolo avere uno strumento addirittura la NM si era schierata messa di traverso succederà chissà cosa un sindacato sul lavoro dei pubblici ministeri 104 vocazioni la NM probabilmente aveva creato un forte allarmismo allarmismo per nulla ecco e quindi quando si parla del tempo del processo il tempo incide perché il tempo incide sulla possibilità di difendersi portando la prova il tempo incide sul condannato perché se una persona è condannata è una persona diversa se passa troppo tempo rispetto alla persona che è stata indagata o imputata ma sull'assolto rimane quella cicatrice che ovviamente nessuna riparazione potrà cancellare ecco io penso che questo sia un elemento importantissimo il tempo del processo la comunicazione e il tempo e quando c'è una comunicazione distorta e un tempo lungo ecco che i danni si creano una comunicazione invece nei limiti e un tempo più breve tra l'indagine e la sentenza definitiva può consentire anche di far fronte a eventuali diciamo errori che si possono verificare io ho apprezzato molto i principi costituzionali che sono stati citati da lei ministro sono convinto che però sia molto difficile poi arrivare a declinare nello specifico con norme di legge che vadano incontro in modo puntuale a quelle che sono certo sono le sue convinzioni noi come parlamentari faremo il possibile faremo proposte cercheremo ovviamente di declinare le nostre tesi e sono convinto anche che ci sia da parte sua una volontà non tanto di trovare la sintesi tra tesi diverse perché molto spesso il compromesso è sbagliato ma di andare verso una soluzione alta che potrà certamente scontentare qualcuno magari saremmo scontenti noi ma sarà una soluzione fatta nell'interesse della giustizia nell'interesse del paese fondata su principi costituzionali e su questo certamente saremo al suo fianco non ho toccato gli altri temi ovviamente perché ho dei tempi contingentati ma ci tenevo con questi numeri con queste indicazioni a trasferire un aspetto quello della tutela della persona del rispetto della persona rispetto della persona che si ha anche attraverso dei principi dei principi declinati nel modo giusto nell'ambito del codice di procedura penale nell'ambito del codice penale nell'ambito delle norme che presiedono il processo grazie grazie onorevole costa onorevole colletti prego l'onorevole costa ha parlato per dieci minuti e mezzo questa presidenza non ha diciamo non vuole essere rigida però se cortesemente può sintetizzare il suo intervento nell'alto di due o tre minuti la rilassiamo molto grazie grazie allora io parlo a nome dell'unica componente politica che è attualmente all'opposizione del governo che lei rappresenta innanzitutto la ringrazio ovviamente componente politica non gruppo parlamentare siamo precisi nelle parole ringrazio ovviamente la ministra per il suo intervento io vorrei essere abbastanza schematico nel mio e nella mia replica lei ha detto che il parlamento deve tornare ad essere centrale ma non è con le leggi delega approvate al governo con un governo che dà la legge delega a se stesso che il parlamento diventa centrale anzi il parlamento viene vilipese ed è spropriato della propria funzione legislativa in questo modo sul processo civile non c'è bisogno di una nuova maxiriforma lei lo ha detto e per me è stato come un tornare fortunatamente indietro rispetto al DDL delega presente al senato c'è bisogno di mettere mano in maniera chirurgica il codice di procedura approvare una riforma complessiva significa attendere dieci anni per la stabilizzazione dell'interpretazione delle norme e non ce lo possiamo permettere per quanto riguarda questa riforma sull'ufficio del processo siamo completenti d'accordo con lei è stato previsto al 2012 e dai meno viene applicato ma sicuramente l'applicazione dell'ufficio del processo va anche contro quanto previsto nel PNRR per quanto riguarda la magistratura onoraria dal nostro punto di vista quindi bisogna capire se l'ufficio del processo viene integrato a magistrati onorari o se bisogna fare concorsi come noi aspettiamo per poter integrare l'ufficio del processo poiché non è concepibile che in primo grado ci siano sentenze fatte da magistrati onorari che in appello ci siano sentenze fatte da magistrati onorari e che bisogna aspettare una sentenza eventualmente di cassazione per essere giudicati da un togato sulla giustizia tributaria con l'avvento del PCT e del PTT finalmente si potrebbe riformare la giustizia tributaria assicurando l'indipendenza dei giudici la professionalità dei giudici e semplificando le procedure il modo più semplice ministro sarebbe quello di istituire le sezioni specializzate e tributarie all'interno dei tribunali delle corti d'appello come vi è la sezione tributaria della corte di cassazione così davvero possiamo semplificare tutto il sistema adeguando altresì i due processi telematici in uno solo per questo l'eramento che vi è proprio su questo una mia proposta la C2283 veda la quale effettivamente si potrebbe partire per migliorare il sistema ma soprattutto per rendere indipendenti i giudici della giustizia tributaria poiché l'indipendenza ma soprattutto la professionalità permetterà anche di evitare appelli e ricorsi in cassazione sul CSM il rischio della riforma governativa è che essa non incida sul correntismo anzi per alcuni si rischia di amplificarlo dal nostro punto di vista l'unico modo per disincentivarlo è quello di affiancare alle elezioni dei membri del CSM una dinamica eccentrica ovvero il sorteggio rispettando la costituzione si può provvedere una prima fase al sorteggio anche per i membri lai c'è una seconda fase elettiva su coloro che risulteranno sorteggiati su questo vi è una proposta di legge la 19-19 che prevede proprio questo e va ovviamente però in contrapposizione con la legge delega approvato dal precedente governo sulla questione della mediazione che riguarda sempre il processo civile le misure alternative funzionano all'estero perché funziona il processo civile qui non funziona perché non funziona il processo deve essere una conseguenza e quindi bisogna pensare alla mediazione alla negoziazione assistita agli arbitrati dopo aver fatto funzionare il processo sulla mediazione delegata io ho un avvocato che frequenta spesso le cancelliere di tribuna e vi dico molti avvocati vedono la mediazione delegata come un'estorsione del giudice vi mando in mediazione vi faccio spendere soldi e se tornate qui senza un accordo ve la faccio pagare scusi se sono troppo diretto il giudice ha nel suo potere l'ordinanza 186 quater la proposta conciliativa 185 bis non serve fare la mediazione delegata il giudice ha il potere di leggersi le carte e decidere anche eventualmente anticipando una parte della sentenza sulla legge professionale forense la riforma del 2012 venne fatta in fretta e furia fu l'ultima riforma l'ultima legge del governo tecnico di Monti e si è rivelata piena di criticità i requisiti di accesso hanno compromesso e libertà dell'avvocato e da ripensare anche il sistema previdenziale soprattutto in questo periodo pandemico e di crisi di crisi economica e di crisi dell'avvocatura così come il sistema dell'incompatibilità bisogna comprendere anche che il mondo evolve e bisogna anche legificare sull'avvocato monocommittente ovvero una falsa partita IVA che lavora esclusivamente per un altro studio legale quindi bisogna disciplinare un vero e proprio l'apporto di lavoro dipendente o par subordinato nella professione forense il recente decreto legge sull'esame di abilitazione dovrebbe far comprendere come necessario modificare l'esame di abilitazione però rendendolo più meritocratico non più semplice meritocratico questo deve essere il nuovo motto per modernizzare l'avvocatura italiana grazie grazie a lei onorevole colletti gruppo dei fratelli d'italia onorevole maschio a lei la parola grazie presidente grazie signor ministro apprezzo sia l'emozione che il contegno istituzionale che lei ha dimostrato che denotano anche la consapevolezza della solennità del luogo in cui si trova e del mandato che sta esercitando e apprezzo anche il riferimento che lei ha voluto fare a una volontà di procedere affrontando i problemi senza presunzione e senza ibris e questa è una sottolineatura importante perché proprio in quest'aula e in questa commissione in occasione del dibattito parlamentare sulla cosiddetta legge spazza corrotti è stato compiuto un atto di ibris parlamentare quello di introdurre in modo forzato con un emendamento la prescrizione all'interno di un progetto di legge che si occupava di tutt'altro con una forzatura che era animata da velleità propagandistiche più che non da equilibrio nell'approccio ai temi della giustizia che di fatto ha destabilizzato l'intera gestione del percorso di riforme che in questi tre anni di legislatura ovviamente è rimasto incompiuto e quindi auspico e sono certo che almeno da questo punto di vista ci sarà un radicale cambio di atteggiamento meno bulimia mediatica meno dirette facebook e più lavoro e rispetto dell'aula parlamentare anche perché soprattutto in tema di giustizia soprattutto in tema di diritti costituzionali fondamentali dei cittadini non si può utilizzare la propaganda ma ci vuole il rispetto appunto di questi principi venendo alle linee programmatiche sicuramente le due precedenti occasioni in cui il ministro della giustizia in questa legislatura ha illustrato le linee programmatiche è stato caratterizzato da grandi annunci ricordo ancora che fu annunciata a inizio legislatura una rivoluzione della giustizia rivoluzione di cui poi ovviamente non si è mai vista traccia perché appunto in tre anni compreso i cambi di governi e di maggioranza che ci sono stati non si è ancora riusciti a realizzare la riforma del processo civile la riforma del processo penale la riforma dell'ordinamento giudiziario quindi è corretto avere un approccio più pragmatico finalizzato a cercare di realizzare ciò che è possibile su questo troverà collaborazione da parte nostra in modo puntuale su specifici punti e temi e argomenti tecnici auspiro che lei riesca a farlo perché lei è consapevole ben più di noi di trovarsi a fare ministro con una maggioranza di forze politiche fortemente con visioni fortemente contrapposte tra loro in materia di giustizia e quindi il rischio principale è che non si arrivi a delle sintesi ma a dei compromessi al ribasso tra posizioni inconciliabili e questo chiaramente porterebbe a non raggiungere i difficili obiettivi che lei si pone e del resto anche l'ordine del giorno approvato alla Camera da lei citato è sostanzialmente un testo in cui ovviamente chi può non essere a favore del giusto processo dalla ragionevole durata è un testo e chi non può non essere d'accordo sulla razionalizzazione dell'efficienza della macchina della giustizia è un testo quello di quell'ordine del giorno nel quale si è potuto solamente dire tutto in termini generici per non dire nulla di troppo impegnativo tra forze che hanno visioni contrapposte per cui diciamo il rischio di compromessi a ribasso è molto alto auspico si riesca almeno su alcuni punti a raggiungere dei risultati concreti sicuramente l'approccio sulla riforma della giustizia civile molto prematico è fondamentale ci sono oltre 3 milioni 200 mila processi pendenti il trend di decrescita è ancora insufficiente sono d'accordo che non servono grandi riforme sul rito semmai serve invece una spesa e un'organizzazione molto oculata sulle risorse qui andremo ad approfondire nel corso del suo mandato in modo dettagliato come puntualmente si andranno ad ottimizzare le spese e la riorganizzazione e la digitalizzazione stessa e il rafforzamento dell'ufficio del processo ritengo che i 2,3 miliardi previsti nella bozza di PNRR inoltrata il Parlamento siano insufficienti siamo tra l'1 e il 2% del monte complessivo delle risorse destinate all'Italia io credo che il Ministero della Giustizia debba chiedere con forza un incremento di queste risorse da destinare alla giustizia per motivi di tempo non posso soffermarvi sul tema del drammatico della riforma del CSM e del sistema della magistratura mi limito ad auspicare una riforma che vada nella direzione del sorteggio temperato nonché aggiungo auspico si possa mettere mano al meccanismo delle porte girevoli tra magistratura e politica perché anche questo è un tema che ha ovviamente delle conseguenze poi sul nostro sul nostro sistema vado a concludere perché non voglio sottrare tempo ai miei colleghi con un paio di punti uno di cui non ho avuto notizia forse mi è sfuggito nella sua reazione che è legato al tema del sovraffollamento carcerario che è il tema del rimpatrio dei detenuti stranieri sappiamo che dei circa 58.000 detenuti in Italia oltre un terzo sono stranieri quindi sono numeri importanti anche sia dal punto di vista della capienza regolamentare sia dal punto di vista dei costi per lo Stato italiano nelle linee pre-programmatiche del Ministro della Giustizia dei precedenti due governi erano stati annunciati grandi risultati in materia di chiusura degli accordi bilaterali e di rimpatrio dei detenuti stranieri il risultato è stato zero e oggi non c'è menzione diciamo di questo che invece rimane un obiettivo fondamentale su cui l'Unione Europea dovrebbe darci un grande aiuto questo consentirebbe sia di alleggerire il sistema di sovraffollamento delle carceri italiane a beneficio sia dei detenuti che ancora più della polizia penitenziaria e consentirebbe anche un migliore impiego delle risorse un altro tema e concludo ho sentito giustamente una apertura alle misure alternative alla giustizia riparativa e alla funzione rieducativa della pena che credo caratterizzi molto anche la sua storia personale ritengo per il rispetto non solo delle forze dell'ordine ma anche delle vittime che si debba utilizzare la stessa determinazione anche nella tutela della certezza della pena perché in Italia il rischio alto invece è quello di avere una certezza dell'impunità e allora noi immaginiamo un ordinamento e un sistema della giustizia italiana che sappia essere garantista nella fase del processo e quindi apprezziamo il suo riferimento a si aspica a una chiusura verso i processi mediatici e i processi senza fine per cittadini che possono essere presunti innocenti quindi garantismo nella fase del processo ma certezza della pena nella fase dell'esecuzione su questo ci aspettiamo una sottolineatura molto più forte da parte sua concludo augurandole buon lavoro in Fratelli d'Italia che è l'unica forza politica all'opposizione troverà un atteggiamento costruttivo e quindi auspichiamo di poter collaborare sui contenuti grazie onorevole maschio onorevole Varchi in videoconferenza prego grazie presidente grazie ministro per le delucidazioni che ha fornito sulle linee guida che animeranno il suo mandato al ministero della giustizia nel corso di questa legislatura il mondo della giustizia è stato spesso al centro di fortissime contrapposizioni tra le forze parlamentari che rappresentano i cittadini nel corso di questa diciottesima legislatura e probabilmente proprio queste fortissime contrapposizioni sono state all'origine della crisi che ha portato alla nascita di questo nuovo nuovo governo che Fratelli d'Italia non ha non ha ritenuto di dover sostenere in maniera prioristica ma al quale come più volte ribadito dalla nostra presidente Giorgia Meloni non farà mancare il sostegno in caso dei provvedimenti condivisi perché condivisibili io credo che andiamo incontro a una serie di riforme di sistema che ormai non si possono più rinviare in materia di giustizia a partire da quella del del CSM sulla quale non ripeterò quanto già detto dal collega Ciro Maschio e per finire con delle riforme dei codici di rito sia quello civile sia quello penale probabilmente meritano una revisione alla luce delle condizioni attuali del nostro processo è evidente che vi è una fortissima connessione come lei stessa ha ricordato tra il dato economico e il dato processuale è chiaro che le imprese sono disincentivate ad investire in Italia se solo si fermano un attimo a pensare che incappare anche fortuitamente in un'aula di giustizia italiana possa comportare uno stop prolungato per diversi anni evidentemente vi è un problema di diritto processuale forse sicuramente vi è un problema di organizzazione all'interno dei nostri uffici giudiziari in questo senso sicuramente un meccanismo di incentivi e premialità potrebbe aiutare a uscire dalla palude in cui moltissimi uffici giudiziari almeno così rassegnano le statistiche diffuse dal ministero negli ultimi anni si trovano e però mi sia consentita una nota una nota amara perché dover immaginare meccanismi di premialità per ciò che dovrebbe essere assolutamente normale rientrante nell'alveo dei doveri di chi dirige un ufficio giudiziario è abbastanza abbastanza triste ecco da dover poi spiegare ai cittadini parallelamente credo che sia sia opportuno rivedere ripensare rivalorizzare un un istituto che era quello della responsabilità civile dei magistrati su cui anni fa vi fu un referendum sul quale gli italiani si pronunciarono anche in maniera abbastanza abbastanza net noi andiamo incontro alla necessità di risolvere dei problemi che si stanno verificando gestione che io chiamo emergenziale anche se mi rendo conto che è un termine improprio perché l'emergenza è qualcosa di imprevedibile dopo un anno evidentemente questa situazione ha perso il suo carattere di imprevedibilità per diventare una costante nella vita degli uffici giudiziari e allora è evidente che non possiamo più parlare di non possiamo più lasciare spazio all'improvvisazione è proprio sul tema della digitalizzazione che è una delle grandi sfide contenuta nella missione 1 del PNRR si si diciamo si gioca una partita di rimente tra il fare un salto in avanti e il rimanere ancorati a meccanismi di gestione degli uffici giudiziari assolutamente anacronistici purtroppo le cronache di tutti i giorni raccontano di cancellerie con programmi obsoleti che nemmeno talvolta consentono agli impiegati di scaricare i file firmati digitalmente dai procuratori delle parti raccontano le cronache giudiziarie di udienze che saltano perché il videocollegamento non funziona ecco in materia di digitalizzazione ferma restando la nostra totale contrarietà a qualsiasi opera di remotizzazione e smaterializzazione del processo penale che a nostro avviso deve rimanere caratterizzato dalla oralità e dalla immediatezza sicuramente la consultazione dei fascicoli penso ad esempio al cosiddetto TIAF che potrebbe essere aperto anche da remoto alla consultazione da parte dei procuratori delle parti ecco nel mondo nel campo della digitalizzazione sono tante le sfide che noi potremmo provare a vincere potremmo provare a vincere non per diminuire il lavoro dei cancellieri o degli avvocati o dei giudici ma per migliorarlo migliorando la qualità del lavoro degli attori del sistema giustizia dei protagonisti del processo sicuramente migliorerà il servizio reso ai cittadini perché in ultima istanza sono loro i fruitori di tutta quella complessa macchina che è l'amministrazione della giustizia sono loro i fruitori e spesso sono loro le vittime dei malfunzionamenti di questa complessa macchina in materia penitenziaria un tema che mi sta molto a cuore in materia penitenziaria ho sentito parlare di investimenti sull'edilizia sull'architettura penitenziaria e però io credo che parallelamente alla creazione di nuovi spazi sui quali certamente si aprono delle formule di ragionamento che ci sarà tempo e modo di approfondire ma che io in pochi minuti ovviamente non posso approfondire parallelamente a questo sicuramente vi è la necessità di colmare la situazione deficitaria del corpo di polizia penitenziaria flagellato dai tagli della legge Madia dalla mancanza di turnover che rappresenta e fotografa una età media sempre più alta a fronte di mansioni certamente inequivocabilmente particolarmente futuranti e lo svolgimento di straordinari di turni in eccesso sicuramente non favorisce la qualità della vita lavorativa degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria una situazione ormai incontrollabile all'interno delle nostre carceri con frequenti aggressioni come raccontano come raccontano le cronache proprio ai danni degli agenti impongono anche di ripensare alcuni meccanismi come la vigilanza come la vigilanza dinamica ricordavo bene il collega prima noi siamo fermamente garantisti fino al terzo grado di giudizio poi però è necessario che vi sia una certezza nella esecuzione della nella esecuzione della pena lo si deve al per il rispetto dovuto al lavoro di quanti contribuiscono a realizzare insomma un processo e alla tutela delle vittime troppo spesso con il nostro con il nostro processo le vittime rimangono prive di un effettivo ristoro che sia morale in ordine talvolta ad una dosimetria della pena che si percepisce come troppo bassa sulla quale però non mi sento di invocare delle modifiche normative poiché il nostro codice prevede già gli strumenti da fornire al giudice per contemperare le varie esigenze e scegliere la pena in concreto da applicare all'imputato ma certamente il ristoro materiale viene quasi sempre a mancare con imputati poi condannati che riescono in qualche maniera a sfuggire a questo obbligo risarcitorio che rimane quindi un'affermazione così meramente labiale voglio concludere ma certamente il mio intervento non può essere esaustivo e quindi Fratelli d'Italia non farà mancare nel proseguo della legislatura punti suggerimenti emendamenti ogni qualvolta che il Parlamento sarà coinvolto nei meccanismi legislativi noi interveremo e faremo la nostra parte però in chiusura io vorrei affrontare un tema che soprattutto in considerazione della mia provenienza territoriale mi è molto caro che è quello della lotta a tutte a tutte le mafie io ho imparato dagli studi prima dalle eh dal dai dati concreti che ho potuto rilevare nell'esercizio della mia professione poi che dove lo Stato arretra le mafie avanzano le mafie proliferano le mafie si arricchiscono lo abbiamo visto in questa emergenza che è stata al sud in Sicilia prima economica e poi sanitaria perché la prima ondata noi quasi non l'abbiamo vissuta per nostra fortuna in Sicilia e oggi le cronache giudiziarie raccontano di interi clan che si erano adoperati per favorire eh chi si trovava in difficoltà ed è rimasto abbandonato dallo Stato con eh sussidi e incentivi che non arrivavano ecco su questo sull'onda di eh queste considerazioni io credo che bisogna ripensare si debba ripensare anche il tutto l'impianto delle misure di prevenzione perché davvero davvero brutto sotto il profilo dell'impatto sociale realizzare agli occhi dei cittadini una fotografia in base alla quale se un'azienda è amministrata dalla mafia quell'azienda produce fattura e garantisce posti di lavoro quando passa nelle mani dello Stato questa azienda fallisce viene depauperata non non funziona più al netto poi della durata esagerata delle dei procedimenti nei quali si osserva si si verificano diciamo le misure di prevenzione ecco il messaggio che deve passare grazie ad un eh un meccanismo più efficace è sicuramente quello di uno Stato che quando prende in mano le redini di un'azienda la fa funzionare come è meglio di prima questo a mio avviso è un un aspetto sul quale si deve si deve lavorare proprio in ossegue a quella connessione fortissima tra economia e giustizia della quale anche lei parlava ci sono tanti argomenti che io vorrei affrontare ma c'è la collega Luca Selli che deve intervenire dopo di me ringrazio il presidente per la tolleranza ancora una volta ringrazio e porgo i miei saluti a nome dell'intero gruppo di Fratelli d'Italia al ministro si grazie onorevole Varchio onorevole Luca Selli prego si grazie presidente buon pomeriggio ministro benvenuto in questa commissione davvero molto brevemente non solo perché i miei colleghi sono stati ampiamente esaustivi ma perché immagino che l'incontro che avrà a breve con il nostro presidente Meloni potrà chiarire meglio qual è la nostra posizione rispetto al recovery e quindi quali sono le proposte del gruppo di Fratelli d'Italia sulla digitalizzazione e sulla stabilizzazione di moltissime persone tra i quali i magistrati onorari che lei ha giustamente citato nella sua relazione e ho però tre domande davvero molto molto banali noi sappiamo che attraverso il sistema giustizia si legge la civiltà di un popolo e sappiamo anche quanto l'assenza di riforme strutturali e di sistema del nostro sistema abbia causato tantissimi problemi non solo da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico e nella sua relazione lei ha parlato di correzioni selettive e mirate rispetto ad alcuni punti e quindi mi vengono in mente due domande la prima è relativamente alla separazione delle carriere noi sappiamo che è un dibattito è stato un dibattito molto acceso per tantissimo tempo e avrei la necessità di capire se la riforma del sistema giudiziario passa anche attraverso questo noi sappiamo che c'è stata una frattura lo abbiamo letto sulle cronache di tutti i giornali una frattura molto importante fra la magistratura e la società civile ed è una frattura che obiettivamente credo debba essere in qualche modo ripristinata e dovremmo farci carico tutti di ricucire il rapporto fra chi giudica e chi viene giudicato e credo che questo passi anche attraverso riforme strutturali come può essere appunto quella della separazione delle carriere quindi vorrei un suo primo input su questo seconda domanda lei sa che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato al Mille Proroghe un emendamento con il quale chiedeva la sospensione della normativa sulla prescrizione e sappiamo che cosa è successo poi in discussione sul Mille Proroghe quell'emendamento non è passato e quindi volevo capire meglio cosa intende fare su questo tema atteso che diciamo quello della prescrizione dei tempi della giustizia sono uno dei fattori che allontanano gli investimenti esteri e quindi diventa non solo un problema strutturale ma anche un problema economico per l'Italia terza ed ultima domanda è relativa alle carceri e alla funzione di rieducazione all'interno delle carceri credo che il sistema italiano sia in parte manchevole da questo punto di vista perché non ci sono dei programmi mirati e diciamo correlati ad una legislazione per cui il detenuto venga immesso immediatamente in un percorso rieducativo ma questo ci dà la possibilità di porle un'altra domanda che è relativa proprio alla struttura e alla gestione del DAP io volevo sapere se secondo il Ministro atteso anche quello che è successo insomma che è stato sulle cronache l'avrà letto lei anche sicuramente nella gestione Bonafede rispetto ad alcuni settori del DAP volevo capire se questa è una delle riforme strutturali che questo Ministero intende affrontare grazie grazie onorevole Lucaselli Italia Viva il gruppo d'Italia Viva onorevole Vittiello prego a lei la parola funziona? si sente? ok grazie presidente si comincio io perché i più bravi intervengono dopo a sopperire alle mancanze dei primi quindi comincio io rispetto al collega Ferri grazie grazie ministra bentornato dottore Piccirillo io l'ho ascoltata con molta attenzione e devo dire la verità mi sento rincorato rispetto alla discontinuità che nel merito noi abbiamo chiesto e che ha portato poi a questo cambio di passo anche dal punto di vista governativo perché il tema della giustizia è un tema abbastanza complesso è un tema che non merita etichette è un tema che non merita manifesti di propaganda politica è un tema che deve essere curato partendo dalle disfunzioni del processo io rispetto al merito quindi farò qualche annotazione però le chiedo innanzitutto rispetto invece al metodo che forse è nei passaggi che ha fatto quello che mi ha lasciato un attimo più perplesso lei ha fatto riferimento a delle commissioni di studio come ha pensato di coinvolgere il Parlamento se lei giustamente ritiene che il Parlamento abbia e debba mantenere la centralità necessaria per curare questi temi della giustizia nelle commissioni di studio e a questo punto le faccio una domanda anche un pochino più specifica non ritiene sia corretto chiedere ai gruppi parlamentari di indicare almeno una persona che possa collaborare a monte e non a valle degli emendamenti a cui lei ha fatto riferimento su queste riforme che devo dire la verità sono anche molto strutturali penso al rito penale e al rito civile perché la collaborazione sarebbe importante e soprattutto per quanto riguarda l'argomento che più mi sta a cuore che è il processo penale proprio perché a seguito di una serie di rinvii della data per gli emendamenti alla legge delega noi già abbiamo fatto un'attività e lei ha fatto riferimento anche ad un'attività istruttoria attività istruttoria che nel 90% delle audizioni ha visto una bocciatura di tantissimi passaggi di quel disegno di legge delega allora ritengo sia utile e anche dal punto di vista della collaborazione fare un'attività a monte degli emendamenti e non a valle proprio perché rispetto al merito a cui lei ha fatto riferimento e naturalmente noi riteniamo che avrà la cura giusta rispetto ad alcuni temi molto sensibili molto importanti però come ci si arriva e rispetto alle alternative sulle soluzioni possibili noi un contributo lo possiamo dare sin da quel momento sin dal momento delle commissioni di studio quindi ritengo sia utile operare in questi termini vengo invece al merito la mia preoccupazione vede da che cosa nasce dal fatto che noi abbiamo discusso tanto su tanti temi all'interno di questa commissione come anche nell'aula parlamentare e l'abbiamo fatto nel corso dei tre anni sia con il primo governo Conte che col secondo governo Conte che ha visto come elemento di continuità il ministro Bonafede sempre lì al ministero della giustizia noi naturalmente non abbiamo niente nei confronti e non abbiamo mai manifestato un senso di sfiducia nei confronti della persona ma rispetto a dei temi così come vengono trattati un pochino sì e le faccio un esempio l'esempio della prescrizione io sono fra coloro che riteneva che dovesse essere modificata e se va a ritroso con i lavori parlamentari noterà già nella spazza corrotti quando noi abbiamo subito una velina che introduceva un emendamento rispetto ad un ambito che non doveva essere quello della prescrizione ma quello dell'anticorruzione noi abbiamo recepito quella io provai a demandarla con la prescrizione processuale proprio nei termini in cui lei ha riferito poc'anzi quando ha parlato di una delle possibili soluzioni ma perché? perché la prescrizione deve tornare ad essere guardata come quello che è cioè una sanzione rispetto alla irragionevolezza dei tempi della giustizia perché il problema è proprio questo c'è stato un equivoco che noi abbiamo subito qui in commissione e poi in aula che è quello fra ragionevole durata e prescrizione che sono due cose che invece non dovrebbero avere una stessa risoluzione la ragionevole durata si fa all'interno del processo la prescrizione sostanziale serve proprio a curare che non diventi eterno il processo invece si è voluto insomma contribuire ad un racconto che secondo me ha sballato rispetto a quelli che sono i paradigmi del nostro sistema penale processuale e lo dico anche perché ho sempre creduto e per quanto mi riguarda il faro è sempre stato e so che sfondo da questo punto di vista una porta aperta il preambolo penalistico della Costituzione tutto quello che è rito penale parte dalle norme costituzionali io credo fermamente in questo io e la collega Annibali abbiamo firmato anche una proposta di legge che faceva riferimento a quella direttiva a cui lei ha dedicato un passaggio nella sua relazione proprio perché crediamo nella presunzione di innocenza anche se sappiamo benissimo che la nostra carta costituzionale non è così marcata come in Europa ma comunque c'è e deve essere tutelata deve essere salvaguardata e tutto questo passa naturalmente per un processo e un ragionamento che occorre fare assieme vado al merito ancora nella delega del processo penale si è fatto riferimento al 190 bis vede anche lì il 190 bis è l'emblema del doppio binario è l'emblema dell'eccezione è l'emblema della regola di un estrema razio che va a toccare quelli che sono dei processi molto specifici di elevato allarme sociale non possiamo certamente ritenere che si possa utilizzare D'Amblè per tutti i procedimenti soltanto perché cambia il giudice individuiamo una regola l'alternativa ce l'abbiamo individuiamo una regola ordinamentale che vieti la modifica del collegio del giudice monocratico quando ci sono processi da concludere perché non è giusto andare a detrimento di quella che è il diritto di difesa a cui lei ha fatto riferimento anche con io ho sottolineato il passaggio lei ha detto esercizio anche dialettico del diritto di difesa io l'ho attribuito al 190 bis che deve essere guardato lei lo guarda come lo guardo io cioè come estrema razio e allora non è giusto far ricadere sulla istruttoria dibattimentale il problema ordinamentale del cambio del magistrato ancora l'udienza preliminare vede si vuole modificare la regola di giudizio di quel momento particolare di filtro fra le indagini e il processo insomma il problema di fondo è che se si cambia quella regola così come vuole il disegno di legge delega noi rischiamo di tornare indietro di 40 anni ad un processo che era un processo inquisitorio perché creiamo un altro grado di giudizio si parla di ragionevole condanna attenzione perché cambiamo completamente il paradigma processuale ancora l'appello monocratico anche lì c'è una soluzione anche lì si può trovare un modo per evitare che si arrivi al processo d'appello un processo d'appello così reggimentato dai numeri sui numeri individuiamo una settima commissione come la Cassazione sulle inammissibilità facciamola anche in appello ma non andiamo anche lì a detrimento delle garanzie difensive bocciando la collegialità e introducendo una monocraticità all'interno del giudizio d'appello insomma io ho giusto altre due annotazioni velocissime una sul CSM io non ho una soluzione su questo perché è molto complesso io so soltanto che all'interno di una qualsiasi comunità quando c'è un problema di gestione della comunità si fa politica io sono per non demonizzare le correnti e di salvare quello che di buono si poteva fare all'interno della magistratura utilizzando le correnti perché fare politica non è sempre una bestemmia detto questo la soluzione attenzione a quello che può essere il sorteggio perché per me è incostituzionale però bisogna trovare un modo per garantire e salvaguardare quel mondo potrebbe essere arrivato il momento di discutere di separazione delle carriere non lo so però cominciamo un dibattito anche su quello infine l'esame avvocato io ho letto lo schema che non è più uno schema è il decreto perché è passato ieri in CDM se non sbaglio o venerdì scorso addirittura io sono preoccupato perché ero fra quelli che non riteneva che l'esame orale abilitante fosse la soluzione a tutto e di tutto forse probabilmente i tempi invece richiedono che effettivamente si vada in quella direzione ma davvero si ritiene che si faccia in tempi brevi tutto questo sono 27.000 iscritti e un passaggio fra le materie fra la prima prova e la seconda prova non togliamo la possibilità chi ha fatto una pratica sempre con un indirizzo civilistico penalistico di dover subire una materia che è l'antitesi della sua professionalità fino a quel momento è molto delicata la questione avranno poco tempo i ragazzi per preparare l'esame orale grazie ministra Onorevole Vittiello grazie Onorevole Ferri a lei la parola il gruppo di Italia Viva ha finito il tempo ma in ufficio di presidenza abbiamo detto che saremo stati elastici però la prego di insomma calibrare il suo intervento su questo presupposto anche per non approfittare eccessivamente della ministra grazie grazie alla ministra per questa relazione completa io voglio partire da una frase che mi ha colpito e che secondo me deve essere almeno per noi il gruppo di Italia Viva la Stella Polare lei ha parlato di lavoro svolto non va vanificato mi ha colpito perché ho ripensato al lavoro che è stato svolto nei governi Renzi e i Gentiloni e quindi vorrei provare a portare in questo breve intervento la lancetta proprio su quelle riforme per vedere come portarla avanti e svilupparle e la legge 28 aprile 2014 la numero 67 che poi ha introdotto due decreti legislativi era una legge delega quello il numero 7 e il numero 8 del 2016 sulla depenalizzazione quindi il primo tema lei ne ha parlato è quello di come migliorare la depenalizzazione come continuare su questa strada quei due decreti appunto è stato introdotto la depenalizzazione e l'abrogazione dei reati con le sanzioni pecuniarie civili voglio ricordare fare un esempio veloce abbiamo introdotto per esempio all'epoca l'omissione di versamento di contributi all'Inps che era un reato abbiamo detto con questo provvedimento che fino all'importo di 10.000 euro l'omissione di versamento di contributi all'Inps non fosse più un reato e questo è servito molto in un momento in cui c'è una crisi economica dove i nostri artigiani piccoli imprenditori soffrono non riescono a pagare le tasse non riescono a pagare i contributi si parla giustamente di stralcio delle cartelle allora continuare su quella strada della depenalizzazione tornando alla legge del 2014 a cui il decreto legislativo è completarlo per esempio l'omissione di versamento di contributi abbiamo messo la soglia di 10.000 euro forse oggi è il caso anche di alzarla e ecco intervenire in maniera efficace sul tema della depenalizzazione perché sia nel civile che chiaramente non c'entra con la depenalizzazione ma nel penale vediamo che il vero problema dei ritardi della giustizia sono dovuti al numero dei procedimenti e lo dirò velocemente anche nel civile quella legge tra l'altro ha lasciato incompiuta e qui faccio anche un'autocritica ai governi che appunto si sono succeduti perché non abbiamo avuto il coraggio di emettere quel decreto legislativo sulla reclusione e l'arresto domiciliare pene automatiche fino a tre anni di reclusione e invece a discrezionalità del giudice dai tre ai cinque anni per reati puniti da tre a cinque anni quindi si parlava si introduceva il tema dell'arresto domiciliare la reclusione domiciliare prevista da questa legge delega del 2014 ma quei governi faccia autocritica non hanno avuto poi il coraggio per un clima politico che certamente non era quello di oggi di attuarla quindi quando si parla di pena quando si parla appunto di sistema da lì partirei per portare avanti comunque c'era già una base che penso che fosse importante poi voglio parlare della legge Orlando la 103 del 2017 sono stati già detti tanti temi la ringrazio per aver ricordato sia l'istituto della non punibilità per tenuità del fatto sia l'istituto della messa alla prova allora anche su questo per esempio il limite dei cinque anni nei lavori parlamentari si discusse molto nel dibattito parlamentare del limite dittale dei quattro anni di reclusione per quanto riguarda i cinque anni di reclusione per quanto riguarda la non punibilità del fatto e sulla messa alla prova il limite dei quattro anni di reclusione ecco alzare questi livelli per esempio per la messa alla prova si può far solo per reati a citazione diretta e non quelli che passano dall'udienza preliminare oggi secondo me si può ampliare quindi anche su questo secondo me si può continuare andare in continuità con quelle riforme che ritengo importanti e vere riforme strutturali negli ultimi anni l'altro tema è quello dell'ordinamento penitenziario ma è stato già detto quindi un flash la delega è dispiaciuto che i governi il conte 1 ha iniziato proprio nel non eseguire questa delega sull'ordinamento penitenziario siamo fermi al decreto legislativo 26 ottobre 2018 numero 123 restano fuori le misure alternative la differenziazione dei percorsi di educativi la giustizia riparativa il tema dell'affettività ma il tema anche delle madri coi minori è un tema importante c'è una proposta di legge che stiamo discutendo e c'è un emendamento la legge di bilancia firma Siani ma anche di Lucia Annibali che è la nostra capogruppo per istituire un fondo proprio per incentivare questo rapporto tra madri detenute e figli quindi anche su questo secondo me si può dare una risposta immediata per quanto riguarda poi la digitalizzazione questo sul tema del penale quindi valorizziamo questo lavoro svolto sulla digitalizzazione incentivare la digitalizzazione nella giustizia di prossimità nei giudici tutelari mi è piaciuto il suo riferimento ministra ai minori al tema di chi non ha voce che ha più difficoltà e allora anche sul processo telematico per quanto riguarda la giustizia minorile siamo all'anno zero l'abbandono dei minori il procedimento dell'abbandono dei minori il tema dei registri informatici la vigilanza anche sulle comunità per quanto riguarda gli affidi con un percorso di trasparenza oggi mancano dei registri quindi non sappiamo in quali comunità molte volte quanti minori sono stati affidati a quella comunità ecco allora su questi temi sia sulla giustizia di prossimità ma sia nel tema sia della digitalizzazione degli affari del giudice tutelare che è quello per quanto riguarda tutto il processo minorile penso che sia essenziale investire quando si parla di digitalizzazione perché molte volte ci si ferma ai grandi temi e non ai piccoli temi le misure alternative lei l'ha detto voglio solo citare dei dati perché noi abbiamo una produttività la produttività dei giudici italiani è al nono posto in Europa e invece siamo gli ultimi o nelle ultime posizioni per quanto riguarda il carico di lavoro e quindi ecco che è difficile poi non è un problema di smaltimento è un problema di accesso alla giustizia e di numero di procedimenti e quindi maggiori investimenti è più facile chiudo con due temi che sono stati già affrontati uno lei ha parlato di infrastrutture digitali il tema è proprio quello dell'investimento nelle infrastrutture digitali noi come Italia Viva proponiamo che ci sia un tavolo tra il Ministro della Giustizia e il Ministro Colao su questi temi perché dobbiamo lavorare insieme e che ci sia poi un coinvolgimento del Ministro Giovannini per quanto riguarda le infrastrutture digitali ma anche il Ministro Cingolani per l'edilizia giudiziaria per tutto quello che riguarda la green economy gli investimenti anche nel rispetto ambientale quindi lei può essere protagonista di una riorganizzazione con una cabina di regia che quando si parla di transizione digitale e di digitalizzazione delle infrastrutture e quelle relative anche al processo penso che siano essenziali la ringrazio per avere subito affrontato da Ministra il tema degli esami da avvocati l'ha fatto con grande coraggio ma con grande anche buon senso lo chiedevamo al Ministro precedente in maniera senza polemica proprio ma per tutelare la salute in un momento difficile per il Paese lo voglio dire quello che sta accadendo in queste ore sul vaccino e sul ritiro del vaccino che preoccupa per AstraZeneca molti cittadini quindi sulla salute andavano tutelati questi ragazzi ora io ho letto il decreto e ringrazio perché noi eravamo per la prova orale però suggerisco si chiude due cose una di non vincolare alla residenza perché molti fuori sede hanno fatto per esempio la pratica fuori da dove erano residenti e l'altro tema è quello di date certe e capire dare delle sicurezza a questi ragazzi che sono in attesa sono già intervenuti comunque da parte nostra massima collaborazione grazie onorevole Ferri onorevole Conte sì grazie presidente buonasera ministra intervengo su una sua relazione molto completa e puntuale che ha determinato un dibattito ricco e quindi consapevole del rischio della ripetizione proverò a dare un taglio più politico al mio intervento partendo innanzitutto dal che ruolo deve avere il tema della giustizia nell'agenda politica del paese mi rendo conto che vi sono delle emergenze sono principalmente quella sanitaria e sociale ma io credo che si debba rifugire il rischio che il dibattito della giustizia che è storicamente potenzialmente più divisivo venga retrocesso in una posizione subordinata perché dalla qualità del sistema giudiziario di un paese non si desume soltanto il suo tasso di civiltà ma anche il suo grado di equità e questo è un valore che ha a che fare con una fase storica in cui il rapporto dei cittadini tra di loro e dei cittadini con lo Stato deve essere valorizzato in ogni settore la giustizia è un organismo malato e il sintomo principale della sua malattia è evidentemente la sua lentezza pochissimi dati ce lo dicono 1600 giorni di media per la definizione di un processo penale che vuol dire che i processi più significativi hanno tempi molto più lunghi in tre distretti di corti d'appello Napoli Roma Reggio Calabria 2241 mediamente 759 giorni per la definizione del grado di appello che è il momento del processo integrato di giudizio che mostra le principali patologie per il processo civile la media è addirittura otto anni e allora rispetto a questo male così grave che ci fa addirittura mettere sullo stesso piano un tribunale con un ospedale perché così come l'uno anche nell'altro si sa quando si entra ma non si sa quando si esce io immagino un intervento su due livelli lei ha armoniosamente diviso per trittici i temi che ha trattato proviamo a rendere più schematico ancora il ragionamento e usare la logica binaria c'è un tema che riguarda l'hardware che sono le infrastrutture noi abbiamo due interventi significativi la missione 2 che ci dà 0,45 miliardi di euro che si sommano 0,4 che già troverà nel fondo nazionale per la struttura di edilizia giudiziaria che vanno rese evidentemente intelligenti come è stato notato poi nella missione 1 troverà 2,3 miliardi per la digitalizzazione che nel sistema giustizio ha a che fare con un tema molto delicato che è quella della cittadinanza digitale perché se è un tema mondiale la protezione dei dati personali rispetto al sistema economico è un tema ancora più delicato la protezione dei dati personali rispetto al sistema giudiziario per cui qui un argomento che noi sottoporremo con il nostro parere in commissione è quello della valutazione della creazione di una rete e di una piattaforma digitale esclusiva per il sistema della giustizia la sintesi e la combinazione degli interventi per quanto riguarda le strutture fisiche e le strutture immateriali quelle digitali può consentire al ministro di recuperare un tema molto delicato con argomenti e strumenti nuovi e mi riferisco al tema della giustizia di prossimità nel 2013 sull'altare della spending review furono soppressi 37 tribunali oltre a tutte le sessioni di staccate esistenti in Italia e 38 procure faccio l'esempio della mia terra che mi sta a cuore nella provincia di Salerno è stato soppresso il tribunale di sala consiglia e un intero pezzo del territorio salernitano migra non in un'altra provincia ma in un'altra regione in Basilicata tutti i giorni per districare i propri affari di giustizia in quello stesso terreno per la stessa logica è stato sacrificato il locale carcere per cui abbiamo un pezzo significativo del mezzogiorno d'Italia sprovvisto di presidi di legalità e questo è un tema sul quale nel combinato disposto degli interventi di struttura materiale e di struttura immateriale credo che il Ministro debba tornare a riflettere dirò poi delle strutture carcerarie vi è tra la parte hardware anche quella che riguarda il personale personale amministrativo e personale giudiziario io credo che qui il rapporto del Ministero debba essere stretto con quello della funzione pubblica per organizzare la più ampia possibile implementazione della pianta organica con lo scorrimento dei concorsi che già sono stati molto avviati dal secondo governo Conte con il reclutamento con altre forme più agili di nuove professionalità di vario tipo questo è molto utile se non indispensabile soprattutto al Sud e ovviamente il personale giudiziario cioè i magistrati il tema molto delicato che secondo me va affrontato con una premessa che il prestigio della magistratura è un bene collettivo che non riguarda solo i magistrati riguarda gli avvocati riguarda i cittadini la qualità del servizio e allora anche per quanto riguarda i magistrati forse c'è da programmare una stagione di nuovi concorsi c'è da immaginare nella schema che lei già ha delineato di una modernizzazione della gestione del carico di giustizia che le bex practices vengono intestate è un ruolo tipico penso alla figura del cart manager che chiariamolo secondo me deve essere un magistrato perché non si può correre il rischio che l'organizzazione di un lavoro che ha in sé i crismi dell'autonomia e dell'indimendenza venga coordinato da un soggetto terzo ma può farlo benissimamente un magistrato che predilige questo profilo di carriera sin dall'inizio un profilo di carriera per il quale si qualifica e si predispone questo consentirebbe rirendere omogenee in maniera strutturale le bex practice che oggi sono affidate a casi evidentemente soggettivi tipici estemporanei c'è poi da ragionare su un grande nuovo patto tra la magistratura e l'avvocatura un patto stipulato diciamo in maniera organica perché è l'avvocatura lo strumento la risorsa la infrastruttura umana che può consentire in tempi rapidi di realizzare lo straordinario obiettivo di abbattere un pesantissimo arretrato che grava come un'ipoteca sul funzionamento prossimo e prossimo remoto della giustizia un'avvocatura che può essere utilizzata con le forme più tipiche della esternalizzazione che pure hanno dato già per altri settori penso alla esecuzione immobiliare risultati molto molto vantaggiosi delle gare all'esterno come le ha ricordato per l'ipotesi della mediazione endoprocedimentale la differizione di alcuni affari civili anche di contenzioso in un quadro di credibilità che deve essere garantito dal patto tra lo Stato la magistratura e l'avvocatura potrebbe determinare delle accelerazioni il ruolo della magistratura all'interno dell'ufficio del processo non è chiara e va delimitata va tratteggiata con la consapevolezza che l'efficacia della mediazione della conciliazione è strettamente collegata all'efficienza del sistema giudiziario perché non vi è deterrenza rispetto alla soluzione alternativa se non funziona il sistema principale quindi il ruolo dell'avvocatura anche all'interno del sistema per quanto riguarda l'ufficio del processo con la figura del clerk che lei ha richiamato del diritto di common law ma anche per quanto riguarda la magistratura onoraria rispetto alla quale questo Stato deve evidentemente ripagare un torto che è ormai riconosciuto da tutti sentenza della Corte di Giustizia Europea sentenza della Corte Sostituzionale quella che lei oggi ricordava è imminente che riguarda proprio l'inquadramento funzionale dei magistrati onorari rispetto al quale ho fatto un discorso di grande onestà intellettuale noi immaginiamo che gli avvocati possano servire la giustizia svolgendo un'attività di tipo libro professionale a cottimo per così dire allora bisogna stabilire in maniera chiara e per legge che questo ha un tempo di durata limitato salva la salvaguardia la messa in sicurezza di coloro che fino ad oggi l'hanno svolto questo ruolo per i quali si deve fare una legge speciale che sani la loro posizione con rispetto alle prorogative svolte o si immagina come pure è stato ipotizzato che essi possono entrare nel grande circuito perimetro del pubblico impiego anche come un terzo un genus sul quale svolgere un nuovo inquadramento e immaginare modalità di selezioni coerenti con l'indicazione costituzionale del concorso concorso che come concetto dobbiamo attualizzare non per questo settore ma per tutti i settori della pubblica amministrazione italiana che è l'infrastruttura delle infrastrutture rispetto alle quali ci vuole uno sforzo e una spinta di modernizzazione indispensabile io credo che questo sia un tema sul quale ella potrà e debba cimentarsi sul piano strutturale sul piano completo il software che dovrebbe girare su queste misure hardware è evidentemente quello delle riforme di sistema io condivido l'approccio che mi pare di aver colto dal suo intervento e cioè che la riforma del processo civile sia mirata e selettiva e non organica perché il costo di tempo per l'implementazione di una riforma complessiva sarebbe maggiore della utilità che invece ci occorre nell'immediato e svolgerei un ragionamento pieno sul ruolo che l'avvocatura può svolgere e sui sistemi deflattivi affidati alla mediazione che va potenziata con riguardo ad esempio nell'immediato la possibilità di una revisione della decisione dei mediatori che non sia quella ancora troppo lunga del processo civile che dovrebbe svolgersi come alternativa un esempio può venire dal sistema di mediazione che vige nel sistema delle telecomunicazioni ed è governato dall'autority per le telecomunicazioni per quanto riguarda la riforma del processo penale già molto è stato detto devo fare alcune notazioni però a cui tengo io penso che si debba pensare a un meccanismo di depenalizzazione molto incidente c'è la relazione della commissione Fiorella disponibile che individua aree intere che possono essere coperte da un'azione di estinzione della rilevanza penale di alcune figure ed un meccanismo deflattivo affidato alla giustizia riparativa come ella ha ben detto che debba andare ben oltre il confini dei reati contravvenzionali e coinvolgere anche i delitti penso ad alcuni delitti contro il patrimonio per i quali la riparazione realizza l'effetto che il responsabile della condotta penalmente rilevante paga subito un debito che altrimenti vedremo postergato al meccanismo della sospensione condizionale della pena per i riti alternativi ci vuole un'operazione verità non corrisponde all'intento dichiarato anche nel PNRR l'obiettivo deflattivo collegato al patteggiamento allargato ad otto anni se si mantiene la lista così ricca di reati ostativi col rischio concreto di ripetere la non funzionalità del primo allargamento del patteggiamento a cinque anni e anche correndo rischi molto seri sotto il profilo costituzionale perché una pena a otto anni che potenzialmente è una pena di dodici anni non presuppone una valutazione del giudice sull'esistenza di una responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e affideremo alla pattezione delle parti una pena molto molto severa in mancanza di un accertamento di questo tipo per il giudizio abbreviato bene la riformulazione del criterio valutativo del giudice ma che senso ha consentire il giudizio abbreviato in tutti i reati tranne per quelli per i quali più si applica cioè quelli puniti con la pena del ergastolo un arresto legislativo del primo governo Conte che ho profondamente avversato lei ha fatto riferimento ministro a criteri selettivi nella fase di appello dicevo prima che la fase di appello è la fase più costosa in termini di tempo del nostro processo penale l'intervento deve essere significativo ma criteri selettivi attenzione che non siano elementi di costipazione del diritto alla difesa come di fatto si sta verificando con il meccanismo dell'inammissibilità massivamente utilizzato in Cassazione che ha prodotto sì enormi effetti deflattivi ma non sempre garantito il diritto di difesa soprattutto di chi è meno capace di organizzare per mancanza di mezzi per mancanza di cultura giuridica la propria difesa nei vari gradi di giudizio quindi attenzione all'equilibrio perché il processo penale tende per la giurisdizione a diventare monocratico di fatto ora si prova a farlo di diritto e io non condivido questa scelta e cartolare mentre il principio di oralità è intimamente connesso a quella di immediatezza sulla prescrizione per chiarirci pende una mia proposta di legge sull'introduzione della prescrizione processuale affianco a quella sostanziale eppure avendo una cultura politica riformista durante il secondo governo Conte ho dato un contributo rilevante per la organizzazione della norma che adesso è nel disegno di legge immaginando in quella maniera di attutire l'impatto di sistema della sospensione con la sentenza di primo grado discernendo tra quella di condanna e quella di assoluzione su quella norma si può ancora lavorare recuperando per il secondo grado di giudizio quello più problematico l'inserimento di meccanismi o relativi alla regola grattere per citare il presidente della commissione che l'ha codificata recuperando l'ordinamento tedesco cioè una riduzione della pena per il tempo in più speso o nel caso dell'assoluzione addirittura del meccanismo istintivo dopo un certo tempo per l'assolto e però è una mia idea e mi piace l'idea che lei voglia invece un confronto delle idee attenzione però a svolgerlo lo dico ai colleghi della commissione con la consapevolezza che il garantismo riguarda un sistema di valori e di regole e non una sola regola e la prescrizione è una parte del tutto attenzione è che non diventi il tutto di una parte perché questo sfalserebbe e falserebbe la discussione che invece adesso deve essere centrata su obiettivi comuni mi consenta sulla giustizia tributaria lo dissi già al presidente Conte in una riunione del tavolo giustizio credo che una valutazione possa essere fatta anche per la voglio dire creazione di una giurisdizione speciale sulla schema della giustizia amministrativa sottrarre alla giustizia ordinaria una materia che è di fondamentale rilevanza economica e sociale se è vero che l'emersione del nero cioè l'evasione fiscale è uno dei problemi principali del nostro sistema economico ed infine ministra per le carceri ho molto apprezzato il riferimento alla commissione architettura in quella come lei stessa ricordava nel precedente incontro definizione c'è l'idea di una considerazione che gli spazi non siano solo dei luoghi fisici ma dei luoghi esistenziali dove svolgere un percorso della vita che è conseguente di scelti sbagliate rispetto alle quali il detenuto debba recuperare la sua dignità e immaginare un percorso di recupero questo non potrà avvenire se non come abbiamo detto con un investimento strutturale nelle carceri italiane che sono vetuste all'interno delle quali per chi ha avuto diciamo la pena di visitarle a me è capitato spesso sotto diverse vesti non c'è nessuno spazio di svolgimento dignitoso dei momenti ordinari della giornata cioè dei momenti che scandiscono la giornata di uno di noi e recuperare assolutamente la possibilità che la pena possa essere svolta possa essere spiata all'esterno delle carceri con dei percorsi adeguati qui la mia idea è che la ministra della giustizia deve baginare un rapporto con quello che si chiama terzo settore che in Italia è un'infrastruttura molto sviluppata in alcune regioni meno in altre e per le quali c'è stato uno sforzo legislativo di messa a sistema che va recuperato perché il terzo settore complessivamente inteso può essere il miglior partner per lo svolgimento nella fase esecutiva di una esecuzione penale coerente con i precetti costituzionali io mi fermo qua ministro lei ha citato De Gasperi con una bella frase che riguarda il far prevalere quello che più ci unisce io vorrei dire con un po' di realismo citando un grande socialista io vengo da questa tradizione politica Pietro Nenni che ricordando la nobiltà dell'arte della mediazione politica amava dire che la politica è la capacità di ridurre le aree del dissenso di ridurre le aree della inconciliabilità questo è il compito che credo è la donna svolgere bene allora sono così conclusi diciamo gli interventi dei colleghi mi pare che il dibattito sia stato abbastanza ampio e che la presidenza abbia dato modo a tutti di esprimersi compiutamente io sospenderei dieci minuti prima della replica del ministro un attimo sì sospendiamo dieci minuti poi così ascolteremo la replica della ministra grazie 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 a grazie 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 bla Grazie a tutti. 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 Allora do la parola alla Ministra Cartabia, professoressa Marta Cartabia, per replicare alle osservazioni emerse nel dibattito poc'anzi terminato. Prego, signora Ministra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.